Ed eccomi qua Microfono a posto Ovviamente il computer si è dovuto riavviare Ho dovuto Manca la luce Non funzionava la telecamera Io ogni volta A che punto siamo con il tetto Tetto finito Finita la pezza che ci abbiamo messo Mi sono anche fatto fare un'uscita sul tetto Direttamente dalla mia soffitta Ogni giorno Ciao a tutti Ciao Rocco Ciao Gianni Giannizzeronero Allora Oggi un bordello di portafogli Ci sono praticamente tutti quelli che mi avete mandato Fino alla conclusione della live Scorsa Non sono riuscito a fare gli ultimi Ehm Poi domani esce un video Su come calcolare la tassazione Dell'obbligazione Domani giovedì esce un video su come calcolare la tassazione Dell'obbligazione zero copone Esce la sera Grazie alla formula di Matteo Oh E guarda te se per sapere come vengono tassati I strumenti finanziari Dobbiamo ricorrere Al validissimo Matteo E non ce lo può dire direttamente il ministero Poi cosa abbiamo Ah l'alfonsino Tra l'altro abbiamo fatto i calcoli Gli ha fatti Nandai E ha detto che la persona che mi ha chiesto consulenza Che mi ha chiesto l'analisi del portafoglio La prima della live della volta scorsa Aveva molto molto più capitalizzazione Dell'alfonsino Ehm Ok Poi domenica esce invece un video Su ancora su Equally Weighted Che sconvolgerà il panorama finanziario Ne parleranno tutti i giornali per anni e anni a venire Ehm Quindi preparatevi Ehm Ok sempre grazie Matteo Ok benissimo Iniziamo subito Che sennò qui non ce la facciamo Che non arriva neanche il panino Arriva proprio la chiusura di brutto Oh per te E ovviamente E cavolo Non è questo È questo Ok Eccoci qua Vediamo chi abbiamo Abbiamo Lorella Gucciardini Larghiamo tutto Che qui Lorella Non c'ha Non poca roba Ok Lorella ci aveva già scritto Infatti la conosco anche personalmente Lorella c'ha Una Svagonata di roba Queste sono tutte azioni singole Lei si è iscritta E gliel'ho detto Lorella Basta Taccagnare Cioè Iscriviti Ad alto consumo Investi Ti costa 200 euro Con tutti i soldi che hai Sei iscritta E questi sono i consigli di alto consumo Investi Su sta roba Queste sono le sue azioni Singole Poi hai Etf a non finire Fondi Obbligazioni E Ok Lorella Poi non contenta Lorella Ha 30.000 euro Di minusvalenze Che le condizionano Che le condizionano Tutta l'asset allocation Perché Lorella Si è messa come obiettivo Della vita Usare queste minusvalenze Per compensarle Come armo le azioni Azioni pure Che dovrebbero fare Almeno 20-25% Di profitto E di fatti Lorella Ha comprato Apple Amazon Alphabet Per sperare In quel 20-25% Di profitto Per compensare le azioni Poi Lorella Ha 87.000 euro Di certificati Al 2024-2026 E Alcuni Si beccherà pure Un'altra minusvalenza Altri buoni Compenseranno Quelli negativi Li ha comprati apposta Per le minusvalenze Una specie di gatto Che si mangia la coda Potrai vendere Tutti i certificati Portare a casa 87k Con 10k Di minus All'istante Ecco Io Questo Non lo farei Lorella Perché altrimenti Poi il tuo Minus A compensare Diventa 40.000 E dato che mi pare L'obiettivo tuo Finanziario No Poi Lorella Questa frase È un po' Azzardata Ha degli appartamenti Che gli danno Ossigeno E Secondo me Bastavano Gli investimenti Finanziari Ok Ma andiamo a guardare Sommariamente Cos'ha Ha una svagonata Ok Ha un 138.000 euro Di azioni Secondo me Lorella Se il mercato Delle azioni Non va giù Tu dovresti riuscire A compensare Quei 30.000 Ti potrai A casa Delle altre Minus valenze Ma basta Ma basta Che non le vendi Eventualmente Vedete Tutti i blocchetti Ad esempio Guardate Questa è già A 700 euro In plus 600 euro Di plus 1500 euro Di plus Le Enel Lorella Com'è che è fatta a fare 1500 euro Di plus Le Enel E Quali altri Ah 1200 euro Di plus Le Riot Platform Che non so neanche Cosa siano Quindi ha già Spazio Per iniziare A compensare Quei 30.000 Certo che Lorella Ha il dilemma Di a che punto Vendo Perché paga Commissioni Mi sembra Che mi Abbia detto Che pagava 10 euro A eseguito Quindi Io Avrò detto All'Orella Vendi quando Le commissioni Sono l'un per cento Del guadagno E quindi Qui potrebbe Già vendere Mi sa che Non faccio In tempo A rispondere Alle vostre domande Ok Queste sono le azioni Che sono praticamente A 138.000 euro Di azioni Esclusivamente Dedicate A compensare Le minus Peraltro Non è così Difficile Farlo Perché Se il mercato azionario Sale di un 30% Fa un bel rally Lei Compensa tutte le minus Infatti È già In 9.000 Di plus valenza Contando anche Quello in negativo Che non è detto Che debba vendere Comunque Secondo me Tra un po' Lorella Potrebbe uscire Da quest'incubo Mi scrive Periodicamente Ok Poi vediamo Quelli che chiama fondi In realtà Sono etf Vedo Ah Questo etf Daily Hedged Forward All Commodity Diciamo Sulle commodity Invest Normale Standard & Poor Standard & Poor 500 Io non starei Così tanto Esposto Sull'America Perché Lorella È già Espostissima Sull'America C'ha praticamente Tutte Tutto il Mido Standard & Poor Clean Energy Corporate Bond Questa è la mia Strategia La disperdita Tutto il più possibile Cina India Nasdaq 100 Stocks Europe Però poco In Europa Lorella L'Europa Non te ne fa Niente World Che sappiamo Abbiamo visto Ieri World Sono un 60 70% Riot È come Mara Sono minatori Di bitcoin Ah Ah è vero Me l'aveva anche detto Cosa ne pensa Del trading Obbligazioni Ne penso malissimo Ma non ho tempo Per spiegare perché Perché secondo me Ma poi ci rimanete secchi E va bene Ma non ho tempo Bisogna fare una simulazione Per rispondere Sensatamente Tips Questi sembrano Obbligazioni Ah vedo che Me li ha evidenziati In verde Ah sì Dopo sotto Mi deve dire qualcosa Forse no Europe corporate Ha gentilmente Me li ha evidenziati In verde Gli etf Obbligazionari Sì Mi sembra che Lorella Spari Con La mitragliatrice Ovunque 100.000 euro Di etf Vari Ma molto Spezzettati Io Spezzetterei Molto di meno Se stai Mettendoli Sul conto corrente Su cui hai 10 o 20 euro Di eseguito Poi ha Un bot Un bot 10.000 Un telecom italia Obbligazione 8.000 Ma basta Fine Questa non è un granché Chissà quanto rende Adesso Intendo Vabbè sotto Di 1.400 È sotto Di 1.400 Lorella Quando l'hai comprata Questa obbligazione Per essere sotto Di 1.400 Adesso quota 102 Lorella Quanto l'hai pagata Questa obbligazione Per essere sotto Di 1.400 Cribbio L'hai comprata Quando non si compravano Le obbligazioni Ok Loro dicono Di vendere L'obbligazione Telecom Pesa 123 Ok Per me è uguale Che tu la venda O che tu non la venda L'obbligazione Rende sempre Quello che dice Borsa italiana Che è Un 7.32 Lodo Tassato al 26% Non ti compensa Una pippa Di minus valenze In realtà Paga Cedola annuale Di oltre 400 euro netti Eh lo so Ma non è Ma è comprensivo Nel rendimento No Per me puoi tenerla Anche perché Non hai praticamente Obbligazioni Hai degli etf Obbligazionari Però Dio Anche questa È peggio Di un etf Obbligazionario È in perdita Il bot È l'unico Obbligazionario Che mi piace Sì ma è un bot E Quegli etf Obbligazionari Soprattutto il bloomberg 10.000 euro A 10 anni Con meno 8.24 Vediamolo Quando dice Anche a meno 841 euro Dov'è 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 Da questo Eccolo qui Mi scegli un etf 1-10 anni E direi che Minimo Minimo 5 anni Va tenuto Io lo terrei Io terrei Tutti gli etf Obbligazionari Nella Speranza Poi promettotelo In portafoglia enorme Nella speranza Che i tassi Scendano Che Tutti lo state dando Per scontato Ma non è per niente Scontato Gli altri etf Potrebbero risalire Sì esatto Concordo Io terrei Nella speranza Che i tassi Scendano Le azioni Oltre 30 Una bomba Cosa vuol dire Sì per me Se il tuo scopo È Sì io andrei Sempre a comprare Azioni nuove Se il tuo scopo È Compensare Le minusvalenze Perché se compri Azioni che hai già Ti mediano il prezzo Quindi Se devi comprare Azioni che hai già Vendi prima Quella che hai In attivo E poi Ricompera Ok Sì sì Azioni 20-25% Di profitto È più che possibile Possibile Non è detto che succeda Ok Certificati Te li gestisci tu Vediamo gli strumenti Che non le piacciono E non sa cosa fare Maurizio Bianchi Cosa mi dice Ah con questi tassi Conviene tenere una quota Del capitale Con l'obiettivo Di attendere il crollo Di tassi Da qualche anno E se non crollano E se andiamo Verso un lungo periodo Con tassi così O con tassi Dell'1% in più Se pensate Che sia impossibile Per me Questo è un tasso ridicolo Io vi ricordo Che io ho iniziato A investire Nei mercati finanziari I soldi Della famiglia Quando mia mamma Venne da me E mi disse Paolo I bot Non rendono più niente Vedi cosa puoi fare E all'epoca I bot Bot Rendevano il 5% Per mia mamma Era niente Quindi Ci sono stati periodi In che i tassi Erano ben più alti Di così Potrebbe benissimo Tassi sale di un punto E resta così Per 5 anni Quindi Io Non mi metterei A investire Lui O meglio lei Può farlo Perché c'ha un portafoglio Enorme Quelle robe lì Ormai ce le ha Già se le tiene E vede cosa succede Tra l'altro Se no Se le va bene Un cap Non compensa Neanche le minusvalenze E poi Spero che Non le prenda più E prenda obbligazioni singole Se proprio Ha bisogno di soldi A breve Ma visto che Anche gli appartamenti Che sono Affittati Penso che non abbia Bisogna di soldi a breve L'obbligazione Telecom Presa Circa un anno Immagino fa Su consiglio di un consulente E beh Certo Perché il consulente Con i tassi a zero Che stanno per salire Consiglia di comprare L'obbligazione Telecom Ok 8000 per 120 Tro Adesso quota 103 Valore attuale 104 Lo so Ogni anno Paga 177 Sì Ok Ma Sì Ok Sono 450 Lei dice Ogni anno Sono 450 Le ronette Che mi entrano E in più Ogni anno Che passa Si avvicina Al 100 Quindi E si avvicina Al 100 Ok Sì Quindi Non può andare Tanto lontano Questo 104 Si avvicinerà Al 100 Boh Puoi tenerla Sì 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 Non fare Poi mi crea Di nuovo Una minus No No Ok Tiella Etc Agricoltura Un Etc Sull'agricoltura Ma che cos'è Etc Sull'agricoltura Vabbè Ce lo dice qua sotto Ha investito 1500 euro Ma in cosa investe Un etc Sulla Agricoltura Giusto per sapere Vabbè Borsa italiana Non ce lo dirà Di sicuro Però Just etf Just etf Si rifiuta Di dircelo Eccolo No È Escluding Agricoltura No Siamo sicuri che sia Ah non è lo stesso Questo però No Non esiste Secondo Just etf Che Quanta Fatica Vediamo Cos'è Sui prodotti Agricoli Generici Come sta andando A caso Perché Prodotti agricoli Che va a caso 3 2 6 Vabbè Eh Si dovremmo leggere il prospetto Sarà un file da 100 milioni di pagine Tante parole inutili Si E tanti milioni di pagine Mi rifiuto di leggere il prospetto Eh Che ti devo dire Eh Boh Tanto l'investimento è irrisorio rispetto al tuo capitale Tientelo Tientelo Sia mai che i pezzi agricoli salgano Etc materie prime Ok Mattiello anche qui Cioè Sono gli etc Sulle commodities Che rientra nella tua diversificazione scelta Etc obbligazionale Indicizzata l'inflazione Io lo terrei anche questa Indicizzata l'inflazione Non dovrebbe essere Cioè in teoria questo non dovrebbe quasi oscillare O meglio Siccome obbligazione e tassi dovrebbero andare a braccetto In teoria non dovrebbero Io terrei queste cose Fanno parte della tua asset allocation Governmental bond Questo invece Non mi piace Perché non è una vera Cioè Oscilla Mentre questo in teoria non dovrebbe oscillare Perché l'obbligazione L'inflazione dovrebbe in teoria andare Simile ai tassi Invece vedo che in teoria E la teoria Questo invece oscilla perfettamente In maniera inversa rispetto ai tassi Però già che ce l'hai Te lo tieni Governamental Corporate Per gli italiani Investire nel corporate bond Non è conveniente Anche tramite etf Sono tassati Al 26% Per giunta qui neanche Compensa neanche le minus Visti che gli investimenti Non sono esagerati Forse l'unico grossetto è questo Boh Io me li terrei Piccato per non fare altro minus valenze Che poi ti preoccupano E cercherei di Tanto questi qua Ma poi salgono Nel lungo periodo Gli etf obbligazionari salgono Nel lungo eh Quindi tanto vale Comprare le azioni È vero Quindi Però io terrei Quindi io terrei tutto in blocco qui Tutta sta roba La terrei Non è un dramma Per il tuo portafoglio Che L'unica parte In cui farei una gestione Un po' attiva È questa Stando attento A quelli che vanno su Tipo questo E pensando Io te l'avevo suggerito Un livello Al quale vendi E ricompri Eventualmente Per capitalizzare La plus valenza E portati a casa I soldi I soldi netti Senza tasse Quindi al momento Ne hai due Che sono abbastanza altini Però bisogna per vedere Il percentuale Questo è un percentuale buono Alphabet ovviamente E anche questo Apple Ok Io quasi quasi capitalizzerei Le tech qui Quanto sono? Più 20% Sono circa Si potrebbe capitalizzare È che se Si spende 10 euro Di commissioni Più altre 10 Per ricomprarlo Sono 20 euro Su 1000 Inizia a essere Il 2% Non poco Forse ci aspetteremo Un po' di più Bene Passiamo al prossimo Vediamo un po' di domande A caso Dobbito cappellino No Cosa ne pensa Del trade in obbligazioni? Vabbè Dipende Il trade Da porazzi Cioè Quello Compo 1 Obbligazione Se va bene Ok Se no Amen Vabbè Se va male Però ce l'avete sul gruppone Fare invece Trading spinto Con le obbligazioni A 70 anni Se poi Beccate Il momento In cui i tassi Sono Ai Fatemi pensare Ai minimi E da lì si alzano E restano più alti Per un bel po' Voi ci avete sul gruppone Con l'obbligazione In perdita Per un bel po' Di anni E ricordo E ricordo che voi Non potete mai dire Se i tassi Sono ai massimi O ai minimi Cioè È impossibile Da prevedere Mi aggiusto la telecamera Che mi dà fastidio Vedere la storta Ecco qui È impossibile Da prevedere Sono ai Verde rosso Verde rosso Verde rosso Verde Quindi i tassi Scendono Togliamoci il cappellino Che mi sono stufato Stasera Non un panino No un hamburger Esatto Come fai Sopera Che i tassi Collerano Come mai Il prezzo all'ora È salito Inizio settimana Mentre l'ETC Pi' famoso È una cena a salire Eh non lo so Non dovrei guardare Come funziona l'ETC Secondo me Devi vedere Il sito di Wisdom È vero Dovrei leggere Più che altro I vostri commenti Rispetto alla sicurezza Gli ETF Ho capito Che gli ETF E le replica fisiche Sono sicuri come i fondi Mentre gli ETF E le replica sintetiche Presentano il rischio Di controparte Come orientarsi È il dilemma Gli ETF E la replica sintetica Spesso Ogni tanto Compensano le minusvalenze Che non è male Non è poi niente male Vuol dire 26% In più di rendimenti Cioè Meglio No Vuol dire che i rendimenti Non sono decortati Nel 26% Ogni tanto Poi Di solito costano Un pelo di meno Per il costo Io onestamente Non mi farei problemi Invece Se riuscissi a beccare Quella Compensazione Delle minusvalenze E avessi Le minusvalenze Allora Ci penserei seriamente Sugli ETF A replica sintetica Certo Certe cose Devi avere La replica sintetica Su Che so Sul grano Devi avere La replica sintetica Ma quando Suggerisci azioni singole Intendi Senza mettere Stop loss Certo Se compri azioni singole Tanto Se compri azioni singole Devi comprarne Tante Perché se ne compri una No E poi Il motivo valido Per comprare azioni singole È compensare Minusvalenze Altrimenti Non vedo Molto motivo Per comprare azioni singole Se proprio Vuoi E ti scoccia Avere l'ETF Vuoi farti il tuo ETF Ma devi veramente Comprarne tante E poi Certo Nessuno stop loss E anche Nessun take profit Lo fate a naso Quando ci avete voglia Di vendere Ma nessuno stop loss Perché Cioè Voi Non comprate Per fare trading Comprate per investire Voi date per scontato Che una di quelle Fallirà Andando a zero Però ce ne saranno Più di una Che raddoppieranno Il valore Quindi Dovrebbe compensare Di solito funziona così Su mercato azionario Veramente Ce n'è qualcuna Che esplode E altre che Piombano giù E non si esclude Il fallimento totale No stop loss Stop loss va bene Se fate trading Ma allora dovete Farvi tutta Una strategia di trading E auguri A farla funzionare Cosa ne pensi In un giro Di azioni finecco E non lo so Cioè Non so Azioni singole Non c'è Non saprei dirveli Io le compro a caso Veramente Io le compro a caso Faccio come l'orella Qui Le compro a caso Cioè le compro a caso Quando devo compensare Più il patrimento Il suo portafoglio di l'orella Perché ho anch'io Le big tech Berkshire Hathaway Eccetera eccetera Ok Passiamo a Sofia Gallo Dopo i miei primi approcci iniziali Mondo degli investimenti Ho deciso di farmi assistere Da un professionista Così ho commissionato Un inconsolente finanziario Indipendente La creazione di un portafoglio Investimenti Su misura per le mie esigenze Non ci dice quanto L'ha chiesto Sicuro All'1% Penso Investimento iniziale 800k 10 anni Capitale finale 2 milioni Partendo da 800k La vedo dura l'orella Facciamo i conti Sono un milione e due Che giugniamo in k Partendo da 800 Insomma Allora Allora Devi fare Devi fare una volta e mezza Cioè devi guadagnarne altri 800k E poi ancora Devi andare A più 150k No Aspettate Eh sì Più 100k Va a 1.6 Più 150k In 10 anni 10 anni Più 150% Possiamo calcolare Quanto è all'anno 10 anni Un più 150% Quindi 1.5 A 10 anni Ci aggiungo 1 Lo rilevo Alla 0.1 Ci tolgo 1 Potrebbe essere L'orella ce la fai? 9.59 netto Per 100% all'anno L'orella Un consulente molto bravo Deve esserci qui E tolleranza rischio Medio alta Già andiamo male Dovrebbe essere alta Ok All'ordo delle tasse Ah l'orella Si accontenta Del netto Diciamo che ce l'avresti fatta Se avessi investito Nello stando Dempour In questi anni Fai la proposta Di portafoglio Ecco Devo dire che Una ola Il consulente Soldi ben pagati L'orella Perché ti ha detto Chiaramente Che il rendimento Atteso Si ferma A 6% all'anno E ha fatto Benissimo Quindi il rendimento Atteso Poi magari È di più Magari diventa Negativo Perché è beccato Uno dei rari Decenni negativi Ma veramente Un plauso Al consulente Che ha detto Chiaramente Che il rendimento Atteso Un dividend Ok Ma è distribuzione No Non si capisce 5% In Nasdaq E QQQ Sarà uno A distribuzione Però Consulente Perché mi fai le robe A distribuzione Poi Ha un world Edged error Consulente Non guarda I miei video Questi sono 40.000 euro Che all'orella Costano il 2% All'anno Quindi L'orella Mi devi 800 euro All'anno Che ti ho salvato Questo cosa qui Di ledging Questo edged Dov'è Questo HDG Tre lettere Ti costano 800 euro All'anno Ok E poi Un physical gold 5% Inflation linked Io concordo Su questo Anche se A distribuzione Poteva Non prenderlo Secondo me Tutta sta roba È vero che Tu l'orella Li vai a dichiarare Medio Al povero consulente Adesso io capisco Meno male Che non ho scelto Quella professione Ti vai a dichiarare Medio alta E vuoi fare L'8,5% Povero consulente Cioè Sono in tradizione La botta è piena La moglie ubriaca Diciamo che io Ti avrei detto Cara l'orella Vuoi medio alta O vuoi l'8% Lui ha scelto Il medio alta E quindi Ti ha riempito Di 6, 12, 18, 24 30% Di obbligazioni Sparpagliate Adeguatamente Allora Li high yield Mi piacciono Perché è uno dei pochi Però la distribuzione Anche no I corporate Governativi Mi comprei Delle obbligazioni Singole Soprattutto perché Hai 48 mila euro A botta Se proprio vuoi Ma io anche no Io mi comprei Delle azioni Forse soldi miei Inflation linked Mi piacciono Perché in teoria Dovrebbero ottenere Il prezzo E anche questi Onestamente Mi comprei Delle obbligazioni Singole Se mi servono i soldi Altrimenti Azioni Io L'orella Questa non è l'orella Questa qua è Sofia Cara Sofia Sofia cara E Ti direi Che Che Forse è il caso Di decidere Se vuoi La tolleranza Rischio Medio alta O se vuoi Il rendimento Al 9% Che poi anche questo 6% Sì Forse ce la fa E Le commenti Sono che A me Questo Questo ETF Governativo Non ne capisco Il motivo Tanto vale Comparazioni Tanto vale Comparazioni Anche questo Questo corporate Neanche perché È anche più Tassato Del governativo High yield Invece mi piacciono Perché rendono bene Rendono forse A pari Delle azioni Questo Inflation linked Almeno dovrebbero Tenere il prezzo Quindi può usarlo Anche un po' Come fondo D'emergenza Il resto Va bene È sbilanciato Sull' Air Sbilanciato Sull'america Tanto E Molto Perché c'è Anche vedo Un nasdaq Aggiuntivo Qui E questa cosa Qui ti costa 800 euro All'anno Poi Perché mi vuoi fare Il pack Cioè C'hai 800k E mi entri Con un pack Così Tanto per Ritardiamo Di Quanto è Questo pack 63 Ritardiamo Di In media Sei mesi Il raggiungimento Dell'obiettivo Già Già che Abbiamo il problema Che il rendimento Non è quello Che vuoi tu E già che ci siamo Lo ritardiamo Il pack Anche no Anche no Però belli Grafici Devo dire Queste sono le Performance storiche Performance storiche Non sono garanzia Delle performance future Ovviamente Guardate che belli Volatilità Questo qua Il grafico Volatilità Rendimento Dove si vede Che al momento Questo è uno Dei più efficienti Il Vanek Morningstar Dividend Al momento Ha reso tantissimo Probabilmente Per una botta Di fortuna 35% Con volatilità Relativamente Bassa Quasi al pari Degli obbligazionari Che sono questi Questo invece Non è un granché Cos'è sta roba X-Trackers Eurozone Dove essere questo Il Nasdaq Forse Sì è il Nasdaq Ha reso solo Un 4% Con volatilità Altissima Ok ha fatto anche La matrice di correlazione Bene Non male Non male Io non amo Molto le matrici Di correlazione Per fare i portafogli Ci metto dentro Gli asset Che mi pare Poi vabbè Tanto in realtà Vedo che robe correlate Poi si decorrelano Tranquillamente A meno che proprio Non siano due prodotti Che contengono Le stesse cose Bene E niente Ecco il mio commento Cioè il commento Il problema Sei tu più che lui Cioè Che vuoi questo E questo E con questo Io Io t'avrei preso Ma io C'ho la mia idea T'avrei preso T'avrei detto Guarda O tutazioni O niente azioni Pack non se ne parla O tutazioni O niente azioni Decidi tu Se vuoi niente azioni Ti metto tutto High yield Che rendono comunque bene Ecco qui Vediamo commenti In caso di etf Quando suggerisci Di capitalizzare Ah Mai Mai Perché tanto cosa fai Ricompri Lo stesso etf Quindi non capitalizzi mai Capitalizzi con le azioni Se hai minus valenze Da compensare Gli etf Non compensa neanche Le azioni Quindi non capitalizzo mai Gli etf L'unico momento In cui li ho capitalizzati È stato quando C'è stato l'affrancamento Proprio adesso Quindi ho venduto Come un pazzo Perché avevo etf In ampia guadagno Cosa fare Di un portafoglio De 65.35 equity È troppo Troppo veloce La domanda Occhio all'effetto Contango Quando è possibile La situazione In cui tolgo la tassazione Non la vedo così impossibile La situazione In cui tolgo La tassazione Sul capital gain Capital gain Intendo Redditi da capitale Quindi le cedole I dividendi Non tanto la tolgono Quanto la equiparano A quella delle plus valenze Cioè diventa Un'unica tassazione Quella non la vedo Così improbabile Un ministro delle finanze Sveglio E Draghi Poteva essere Un governo giusto Per questo Un ministro delle finanze Che ci capisce qualcosa Di questo E non è detto Perché Voi Quando Voi Quando è il segreto Della cabina elettorale Votate a cazzo Cioè voi votate Come io scelgo le azioni Questo qua Me lo clipo E mi faccio uno short Voi votate Voi votate Esattamente come io scelgo le azioni A cazzo E poi arrivano Ministri delle finanze Che non ci capiscono niente Ne vorrei citare uno Che inizia per tre Va bene E quindi Non si sa Comunque Se invece Se invece la domanda Dimmi una cosa Mi raccomando Mi raccomando Stai attento Qui alle strisce pedonali Perché ti devi fermare Allarga Con un numero tondo È vero Tremonti istruzioni Per il disuso Io non ho detto Tremonti Quelli che devono togliere La tassa Sulle transazioni finanziarie La intendi La Tobin Tax Volevo fare un video Sulla Tobin Tax Dal titolo Tobin Tax La tassa più assurda Che esista Perché voi non sapete Ma c'è anche quella In Puglia mai si fermano No dai Su Stato Cioè non è che ti investono Cioè Sì se tu aspetti A bordo Delle strisce Non è che l'automobilista Si ferma Come ho fatto io una volta Una volta ho dovuto Aprire la portiera E dire Ah oh andiamo Però Se tu Già hai il piede Sulla prima striscia Si fermano Dai Neanche se sei steso Sulle strisce Sei dei buoni Freni Brembo Dipende Se a fretta Non si ferma Prossima vacanza a Roma Ci sono stata a Roma Ma è vero Che giravo in taxi Quindi I libri di Tritè Li hai letti tutti? Sì Adesso me ne prendo uno Tipo questo qui Hop E Ieri un vecchietto Mi ha suonato Mentre giocavo Traversare le strisce pedonali È perché sono abituati Che una volta in Italia C'era la regola Che non ci fermava Bene Dopo questo escurso Sulle strisce pedonali Passiamo a Robert No Ops Ops Voi mania Mania di mettere Il nome Passiamo a Tamarro Non so perché L'ho chiamato Tamarro Probabilmente aveva Un'email Un'email Strana Grazie Per i complimenti Finché le informazioni Saranno gratuite A 25 anni Hai ricevuto in eredità 560k Oggi tutti i casi Da porazzi Sono tutti in liquidità In questo momento Tu cosa faresti? Non ho il programma Di comprare casa o macchine Vorrei investire 500k Agli altri 60k Utilizzarli come investimenti Personali Per fare master Su divari Ma scusate ma Sti master Costano così tanto? Com'è che la mia università Per il master Fa pagare tipo 1500 euro E se siete anche Un po' barboni Vi beccate pure L'esenzione Dalle tasse E la borsa di studio Cioè sti master Costano veramente così tanto Intendo l'area magistrale Non intendo master Stano veramente così tanto Cioè Ok Sì Abbiamo oltre Anche i miei genitori Avevano questa idea Avevano messo via da parte Soldi per farmi studiare Ho speso una lira Io non ho neanche comprato i libri L'unico libro Ho comprato È quello di chimica Che ho rivenduto subito Perché poi non ho fatto L'esame di chimica Ammetto tra l'altro Delle lacune di chimica A causa di quella mancanza Dell'esame E Niente vabbè Ok Lui comunque vuole mettere 60k Ok La mia professione rischia È abbastanza alta E Tu hai Ah ok Però lui ha una strategia buona Diciamo che di solito Io a uno Dello a suo posto Direi Non investire Perché non sai cosa farai Nella vita Però lui ha già un'idea Di cosa fare nella vita Spenderà massimo 60k Per studiare Ok Abbastanza Non mi piace Questo abbastanza Mi ha davvero quantificato Il mio orizzone temporale 15-20 anni Ciccio bello C'è da scegliere Allora Io ho fatto il video Investire con un grosso patrimonio Ora Tu hai la soluzione No brainer Che Adesso io cito Il gruppo reddit Non è parola mia Ok La soluzione No brainer VVCE And chill Quindi un etf Mondiale azionario E non fai più niente Ma non Non devi Fare più niente È proprio E Oppure Siccome so che 500k In un unico asset Fa un po' Palpitare Tu con 500k Io quello che faccio io Con 500k È Prendere I vari Settori geografici E comprarmi un etf Di quel settore geografico Che so Decidi quanto vuoi mettere X per cento Stati Uniti Ti compri un etf Sulle Stati Uniti X per cento Europa Ti compri un etf Sulle Europa X per cento Cina X per cento Australia Canada Giappone Non dimenticatelo UK E poi chi abbiamo Di bello India India Se vogliamo Poi possiamo andare Anche su quelli piccini Che sono in Sud America E certi altri Spapagliati Qui e là Australia L'ho già detta Sì Quindi E questo modo Ha il vantaggio Che se per caso Devi attingere A questi soldi È molto probabile Che ne trovi uno Che sia salito Anche in periodi bruttini Cioè Quindi anche in periodi bruttini Dove l'America Crolla Magari ne trovi uno Che è salito Se invece ti compri Un etf unico Quello Ora è salito Ora è sceso Non hai molta scelta Invece spezzettando un po' Quindi con 500k Io spezzetterei Se fossero soldi miei Io spezzetterei In etf geografici Di compro E li tieni lì Li lasci lì Li guardi una volta all'anno Non di più Scoprirai Dopo il primo anno Niente Dopo il secondo anno Scoprirai che uno di questi È salito di sicuro E dici Ah che bello Gli altri fai finti Di non vederli Aspetti Ok Su questo canale Ci sono vecchi milionari O giovani Che sperano Nella prematura morte I genitori Ce n'è uno dopo Che spera proprio in questo Ah ecco Vediamo Mi dite Quanto costano Bello il forma di ieri sera Ma i tuoi video Non ammarchi in più No dai Quello di misteri però Analizza di più Anche gli aspetti personali Devo dire Non male Dalla finanza La scuola guida Un attimo Master in Bocconi Anche 15k Però non è 60 È vero che poi 15k Ne vanno 30 Per alloggiare a Milano Ok E master Intendi l'aura magistrale Perché qui a Bolzano Il termine master Significa l'aura magistrale Ma penso che per voi Invece sia il master Post l'aura magistrale Per recupero o minus L'obbligazionario sotto la pari Alla data di rimborso Sono dei tassati Le obbligazioni Sotto la pari Cosa è sotto la pari Che tu hai comprato Sotto la pari Se tu l'hai comprata A meno di 100 Ti viene rimborsata a 100 Era stata emessa a 100 Questo è importante Allora quella parte lì È detassata Ti va a mangiare Minus valenza Gnam 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 E Se invece Era stata emessa A un prezzo diverso da 100 Nel video di domani sera Trovate Domani sera Non rompetemi le palle Con i commenti Perché sarò a giocare A tavolo probabilmente Saluto Mr. Rip E Trovate invece Tutta il formulone Per calcolarlo Magistrale Più su 5k Con la live di oggi Mi sento molto povero Spaccate il sabato Mi sono trovato 500-5000 once d'oro Dai Quanto è un oncia? Quanto è? Mezzo etto? Non mi ricordo 60k di cultura Ben spesi Tobin Tax Dov'è? Che hanno scritto 10 anni fa Una cavolata pazzesca In realtà Povero Tobin Tobin l'aveva pensata Per un altro Stumento Penso per i cambi Cambi Valutari Adesso Lo si nomina Sproposito Per questa tassa Che lui aveva ideato Per tutt'altro Ed è stata estesa Ed è stata estesa A cavolo Già inizio Giustamente Investire 60 Per studiare Spendi 500k Così fai il voto Su te stesso Ah il Messico Ecco è vero Tamaro Mi raccomando Il Messico Se prendono i margini Rischi di trovarti la Cina Il doppio e il triplo Dell'India Mentre sempre Più promettente Il proprio mercato indiano Vabbè Se sei soldi Per spezzettare Te lo giustisci tu Voi votate Come io Compo le azioni Ad cazzo Un mitico Ma è vero Io ne ho avuto sempre L'impressione che gli italiani Votino a cazzo Cioè perché Cioè io Vorrei mettermi di fronte Al seggio elettorale E dire Tu ti ricordi Il politico Per cui hai votato Che ha fatto passare Questa legge assurda Quest'altra legge assurda No io non mi ricordo niente Come se così sicuro Anche io stesso Quando voto Dico Ma questo qui Poi aveva fatto passare E che non c'è più nessuno Se escludi la gente C'è molto motivo Perché tieni tanto Messico Staglia, Giappone e Sudafrica Stai di parlare così Sembra che siano presi Un po' scadenti Ma con potenziale Di fare tanto Più o meno all'improvviso Sono paesi Scadenti adesso L'Australia Non è il Giappone Giappone Attenzione che Giappone È la seconda economia mondiale Cioè Nell'ordine degli stati Ci sono stati uniti Giappone UK Quindi Nell'ordine di capitalizzazione Del mercato borsistico Giappone è enorme Se guardate l'MSC World Giappone è tipo È il 6% E Gli altri sono il 3 E anche meno Gli Stati Uniti Sono il 60 Ok Quindi Giappone è grosso Di per sé In realtà io Giappone non lo considero molto I paesi emergenti Sono comodi Perché schizzano in su All'improvviso Sono una Mezza scommessa Ma se ne prendi tanti Qualcuno schizza in su 31.3 grammi Ah un'oncia Un'oncia sono pochissimo Pochissimo Ecco Però Rev True E se gli Stati Uniti Mi fanno una crisi Nel video che vedrete domenica Tra le varie cose Vedrete cosa succede Quando avviene una crisi E siete sovraesposti Sugli Stati Uniti Perché se avviene una crisi Sugli Stati Uniti Nei giornali Passa come Crisi mondiale Perché? Perché sono il 60-70% L'economia mondiale Quindi è una crisi mondiale Ma se tu Sei sottoesposto Sugli Stati Uniti E arriva una crisi Per gli Stati Uniti Vedrete cosa succede Al portafoglio Sottoesposto Sugli Stati Uniti Quindi Non è detto Che gli Stati Uniti Vadano bene Ci sono anche periodi In cui hanno fatto drammi Poi Probabilmente Andranno bene La compensazione Plus minus La fa direttamente la banca Sì se sei in regime amministrato Se non voti adcazzo Non voti nessuno Eh lo so Infatti io non voto nessuno Grande povero Nessun politico È vero Si va sulle novità È vero In Italia le novità Politiche piacciono Perché almeno è vergine Se non ha ancora fatto cavolate Cosa ne pensi dell'India? Io ho degli ETF indiani È uno dei tanti Ciao Polo Mi ho scivolato il telefono in piscina Per guardarti Per il futuro Nel video di per lei Bravo Secondo me il problema del Giappone È che ha la stessa industria della Cina E da quando si è sviluppata la Cina Ha perso molto Può essere Voti lo slogan Eh sì Gli italiani votano lo slogan Io non lo vedo il Giappone per il futuro Neanch'io l'ho mai visto il Giappone per il futuro Però Nell'indice World è veramente tanto È Vietnam un cipino Ma poi ce lo metterò io Passiamo al prossimo Ilaria Orlando Buongiorno Da quando ti ho sentito Non mi parla di nessun video Brava Ilaria Quelli divertenti con Mr. Rip Strategia d'Arminiana Gli locali da sole Gli otterrò Gli bilanciamenti Brava Ilaria Sono tutte pepite d'oro Ilaria Le donazioni Scherzo Non sollecito donazioni So che sei molto impegnato Po' di tempo La gestione patrimoniale Paura Questa parola Vediamo Ilaria Se è una vera gestione patrimoniale Investimento 50.000 euro Costi 934 Di cui 197 imposte tasse Mi fa pensare Che sia una vera Ok È una vera gestione patrimoniale Mi sa Ok vabbè Quanto ci ha guadagnato Non interessa Però A Ilaria Sta gestione patrimoniale Costa 390 A di cui Quindi Costa 740 euro A Ilaria Questa gestione patrimoniale Vorrei sapere Se chiudere Di fronte ai costi assurdi E nel vedere Come gestiscono i soldi Vediamo assurdi 740 euro Diviso Perché le tasse Le pagaresti Più o meno comunque Oh dai 1,5% Ilaria Da quando mi sono messa Ilaria A studiare i mercati Da sola Maledetta lingua italiana Con 10.000 euro Su directa Sto guadagnando Ok Però Ilaria Questo potrebbe essere Anche una botta di fortuna Ah Ilaria Mi forniva Un foglio Excel Con 1000 tabelle Allora Prima cosa Che guardiamo Di Ilaria È una tabella Che lei mi ha detto Di non guardare Ma la guardiamo lo stesso La sua gestione patrimoniale Attenzione 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 Acquisto titoli Vendita titoli Vendita titoli Acquisto titoli Vendita titoli Vendita titoli Vendita titoli Tra l'altro Ah no Questo qua è la stessa vendita No non è la stessa vendita Sono tre titoli diversi 189 602 469 Acquisto titoli E Siamo ancora appena Al 10 del 2 Cioè il 10 del 2 Il signore che faceva Questa gestione patrimoniale Si è svegliato Ha detto Che facciamo oggi Prendiamo il portafoglio Di l'aria Gli diamo un bel Rimescolone Di cazzo Veramente Terribile 10 del 2 10 Tutti i 10 del 2 Poi Fino al 16 Non è successo Vediamo che giorni Erano della settimana Perché magari C'è una ricorrenza Sul giorno della settimana Venerdì Secondo me Doveva andare in vacanza E quindi Ha chiuso un po' Di posizioni Via Non voglio Basta Aiuto Non voglio Tira via Sta roba Ok Era venerdì Il 10 Il 16 Quindi era giovedì Il 16 Agisce di venerdì Guarda guarda Poi non ha fatto Più niente Per 15 giorni Ah sono arrivate Delle cedole Ah no Quindi non ha fatto Più niente Per tanti giorni Perché Questo periodo Che segnali C'erano Dal mercato Che hanno fatto Si che non successe Più niente Poi il 16 Uno sbordetto Di vendite E riacquisti Così A cavolo Cioè Ilaria Tu devi abbandonare Questa gestione patrimoniale Non Perché ti è costato Questa cifra qui Ma Ma per questo Cioè Ma che cos'è Staro Ma cosa c'ha Cioè Delirium Tremens Alla mano Del mouse Cioè Ha fatto Per essere un altro Ha fatto Una vendita Grossa Cioè C'ha veramente La palla di cristallo Questa persona Vende Compra Vende Compra Vende Compra Vende Compra Vende Compra Sentiamo Cosa dite Ho bonificato 4000 euro A Binance Oggi Ho un contovalore Di 12 Se vendo 4k Mi ribonifico 4 Cyberbob Ho fatto Un milione Di video Su sta roba Vengono Tassate La vendita Di criptovalute Non i trasferimenti Di erro La vendita Di criptovalute Se tu Ottieni 2000 euro Di plusvalenze Nel 2023 Paghi tasse Quindi Se sei già sopra I 2000 euro Di plusvalenze Vendi roba In minusvalenza Abbassati La plusvalenza A 1900 E non paghi tasse Per il 2023 Quello conta Non contano I bonifici Avanti indietro Quella è una leggenda Messa in giro Da So anche da chi Ma non voglio dirlo Che poi adesso Ha adottato anche lui Il sistema civile Cioè Quello di Conta la vendita Dove acquistare Questi etf Quali etf Qualunque etf Allora Borsa italiana È fornitissima Di etf Quindi basta Avere accesso A borsa italiana Qualunque intermediario Finanziario Che abbia un contotitoli Vi dà accesso A borsa italiana Poi in mente Il più economico È directa Anche se Non esiste più Il codice amico Quindi Non ci guadagno Niente A dirvelo Directa Al momento Secondo me È quello più economico Poi magari Trovate Se siete Dei grossi Investitori Trovate qualcuno Più economico Però Per importi Per patrimoni Piccolini Directa Appunto E basta Perché ne sono parlato De peghi Di alcuni etf Dal benchmark Vorrevo fare un video Su questo Però storico Non di adesso Cioè storico Però prima di quello Ce ne sono altri 170 da fare Quindi Un portafoglio Sull'azione Un portafoglio All'alto rischio Di solito Viene definito Così Non da me Ma viene definito Così A Bolzano Insegna Sì in italiano E insegna È riferito a me O è un sì In personale Poi italiani Mai essere Chiari Ho recentemente rivisto Il film di Fantozzi In cui arriva Ortisei Per sciare E lo accoglie Su Tirolese In cui gli dice Finire da Italia E Paolo Villaggio Risponde Perché qui Non siamo in Italia Ok No io insegno Prevalentemente In inglese All'università E nelle scuole Invece Ci sono le scuole italiane E quelle tedesche Carnevale La ricorrenza Ah è vero Carnevale I miei studenti Fanno finta Di non sapere l'italiano No 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 Sanno I studenti Soprattutto quelli Altortesini Sanno bene l'italiano Anzi Magari non sanno bene Il tedesco Pur essendo di madrelingua Il venerdì Mercati calino sempre Ci sono delle ricorrenze Volevo farci un video Più che altro Perché so che è un video Molto clickbaiting Sell Non avete notato Che a maggio Sono usciti tutti i video Sell in May And go away Voglio essere anch'io Pagato per fare trading Esatto La gestione patrimoniale Pagate una persona Che si diverte A spese vostre Vendi e compra La pagoria Le transazioni Che sono fallite A proposito di crypto Ricordate di compilare In modo per i claim FTX Sì Banca americana Credit Suisse Ma non è strano Che in Italia C'è solo due broker puri No in Italia Di broker puri Ce ne sono tantissimi Ma di broker Che puntano molto Alla clientela retail C'è prevalentemente Directa Poi Quali citi tu Fineco è una banca Sì C'è prevalentemente Directa Ma ce ne sono tantissime altre Quelle che voi chiamate broker In Italia si chiamano SIM Come la schedina SIM Società di intermediazione immobiliare Ce ne erano tante Già quando ho iniziato a investire Io nel 97 Quindi Ce ne sono tante Stanto che non puntano Alla clientela retail Sono dei rompicoglioni Sono dei rompicoglioni La clientela retail Sono diretta Alla pazienza Di sopportarvi Comunque ce ne sono Ce ne sono parecchi Il venerdì Delle tre streghe Puoi fare un video In cui dici Pensione Per dieci minuti Pensione 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 Possiamo darti del tu Lei potrebbe darmi del tu Solo voi però Normalmente È una cosa odiosa Quando vado in un negozio C'è la squinquietta Che ha un quarto Della mia età E mi dà del tu Lorenzo Dopo queste domande Ok Vediamo il suo Portafoglio Quindi allora Come avete detto voi stessi Io ho il sospetto Che qui Queste sono le spese vive Di gestione Poi ho il sospetto Che ci siano anche Le spese di compravendita Ma magari non ci sono Ma sicuramente C'è uno spread Tutte queste vendite Hanno uno spread Voi sapete che Se guardate Il prezzo di acquisto Il prezzo di vendita In borsa Non sono uguali Quindi ogni volta Che acquisti e vendi Ci perdi mezzo spread Quindi c'è pure uno spread Quindi c'è una perdita Un dissanguamento Mostruoso Senza motivo E vediamo in cosa Questo Quanto lungo è Ma come si chiama Lei come si chiama Vediamo Ilaria Quanto lungo Ce l'hai Ma Vabbè Ora Basta guardare un po' i nomi Nef Ecco qui Questo potrebbe essere un etf Potrebbe Potrebbe Vediamo se almeno questo è un etf Gli altri no Non è quotato su borse italiana Cioè ma perché prodotti neanche quotati su borse italiana Allora Se io E lo dico io Che sono favorevole allo spezzettamento Però Cribbio Spezzettamento Su mille euro Queste sono obbligazioni francesi Le ruate Perché due obbligazioni francesi Buttate così alla cazzo Uno Dico inizio a dire parolacce adesso anche Uno 2032 2028 Ah De necessità di avere 2200 euro nel 2032 O nel 2028 Perché sta roba Obbligazione a breve termine Perché un etf di obbligazione a breve termine Ha la necessità di tirare fuori questi soldi No Così Mi Mi Questi sono Sono un po' misto fondi etf Questo potrebbe essere un etf Dell'Invesco Vediamo Non è quotato su borse italiana Almeno su just etf No ha un fondo Anche questo ha un fondo Tutti i fondi Quindi tutta roba che poi Gli carica su un'altra percentuale di costo Cose Queste cose sono state messe Per seguire la filosofia del Diversifichiamo Ma diversifichiamo con la roba Dello stesso a tipo di asset Quindi diversifichiamo tra le azioni Diversifichiamo con le obbligazioni Solo se voglio veramente delle obbligazioni Ma le voglio? Ci dice l'orizzonte temporale? Non ce lo dice? Cioè Robaccia Qui va avanti Ho paura Guarda 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 Ma cioè E poi qualcuno Meno male Devo dire Nessuno di voi ha criticato troppo Il video sulla lotteria Ma questa è una lotteria Veramente Cioè Qui stiamo andando a puntare Sul 17 e mezzo Non sul 17 Mamma mia Mamma mia Ok Ditemi qualcosa Etc in cripto Nessun grattacapo fiscale I fondi neff Fondi cose assurdi Ok Anch'io da 52 anni Odio ragazze Che danno subito del tour Anche se stanno Lei da mezz'ora Eh sì Siamo vecchi Stripitoso No Non fai lo stupidio È vero Il sottirolese diceva Non fai lo stupidino tu E poi diceva Con fuori italiani Non essere mai sicuri di niente Ma se vendi al prezzo che imposti Non c'è spread C'è spread Perché in realtà Nel momento in cui vendi C'era uno che voleva acquistare A un prezzo diverso Quindi è vero Cioè sì Il problema è che se tu vendi Vendi al prezzo che imposti Magari non lo raggiunge Quindi non vendi Vendi tutto e compra 3TF Eh direi Eh direi proprio Non l'ho detto io L'ha detto Nicola Delben Quindi Nicola Delben Nicola suggerisce Vendi tutto E compra 3TF Mi dice anche Che c'è Le sue performance Con Su directa Eh Ok Però è un po' performance Questa per colpo di fortuna Ti devo dire Ilaria Va bene Comunque Ilaria Abbiamo Esaminato Deve essere Il catalogo del consulente Passiamo a Matilde Corgo l'occasione Per ringraziatevi Mi fate appassionare così tanto Io capo della matematica Che nella vita fa tutt'altro Ho scoperto il fascino La finanza personale Grazie a te Ok Vuole un mio parere Riguardo a livello di portafoglio Mi trovo per motivi di successione Oggi è la giornata dei ricchi Intitolerò questo video Il video dei ricconi Avete notato tra l'altro Che l'azienda Che abbiamo esaminato Nella live di due giorni fa È Molto molto più grossa Della Alfonsino SPA Che è quotata Della borsa italiana E citata ieri Nella Live con Mr. Rip E Quelli che vendono i mobili Lei è sopravvalutato Sì è vero Lei è soprattutto un po' ambigua in italiano Perché poi non sai mai Se dare dell'ero Dare del tu Ok Vediamo qui 33 anni Stipendio 5k al mese Ma perché io Matilde Devo prendere meno di te Comprese Le royalties Da youtube Libertà finanziaria Scegliere di lavorare Per puro piacere Ok Orizzonte temporale 15-20 anni Pac No Mettiamo Segniamolo in rosso Giù Nota Rossa 400 400 Più 400k E mi fa un pack Da 1 punto Quanti anni ci mette A investire tutto Vediamo 800 Diviso 1 Ci mette 44 anni A investire tutto Hai fatta domanda Io appunto Se mi sentite Dalla paperon De paperoni Volevo iniziare A fare consulenze Solo a voi però E non sto scherzando Visto che ci sono I miei colleghi Che fanno consulenze Per 6 cifre Anch'io Una consulenzina Mi accontenterei Di 4 cifre Allora Vediamo 58% Vvce Oddio no Gg Ra Cos'è Gg Ra Allora Facciamo così Dov'è qui Questo casino Ok Cos'è Gg Ra Dividend Growth Ok Accumulazione Va bene Glux Glux Global luxury Cosa c'è dentro In un global luxury Settore del lusso Andiamo a vedere Cosa c'è dentro Richemont Louis Vuitton Hermes Mercedes Tesla Ferrari Sì Ci sono dentro Due automobilistiche Una quasi automobilistica Caring Pernod Nike Nike fa lusso Stati Uniti Hd W H Andiamo su difficile Hd W Hd W H Un po' troppe lettere Ho messo Sì è un hashtag Di instagram E vediamo Finance Così forse Cos'è Ah eccolo Xtrex Healthcare Gli piacciono i settoriali Insomma Liquidità 50k Beh ma Secondo me Matilde Mi sembra che tu Te ne intendi più di noi Cioè Ti sei appassionata troppo Matilde Te ne stai intendendo più di noi Cioè Questo portafoglio va bene È sbilanciato Sull'America Perché il VVC è sbilanciato Sull'America Tutti questi probabilmente Sono sbilanciati Sull'America Domenica Matilde Guardati Il mio video Che ti dice Se scegliere Value weighted O equally weighted Nella storia Vi ho già spoilerato Di cosa conterrà E si vede Che in certi momenti Il value weighted Quindi quello sbilanciato Sull'America Pesta In giù Però Va più che bene Cioè Se tu Matilde Finivi nelle mani Del consulente Di Ilaria Eri finita Matilde Brava L'unica cosa Non capisco Il pack Cioè Questo è già investito E in più Fai un pack Basato sul tuo stipendio Ok Ma se il pack Serve per investire Sta roba No No Matilde Altro Se proprio proprio Ti piange il cuore Buttaci questi 400k Subito di netto Pam Metticele 100 100 100 100 Ma pack Da 1.5 al mese No Liquidità 50k Secondo me ci sta Potresti aver bisogno Di qualcosa Poi adesso iniziano a dare tanto Il conti deposito Direi Alt Fermi tutti Invivenziato in giallo Matilde Eh però 50k Sono pochi però Cioè Non so quanto costano Gli immobili Qui con 50k A Bolzano Ci compri Neanche il baracchino Di angurie di fronte Ci compri No Ci compri veramente Un garage In centro O Due garage In periferia Sicuramente Non viene fuori Né come un locale E lo so Perché Perché lo so Matilde Queste 50k Ti bastano Per la tua Occasione immobiliare Perché se non ti bastano Devi vendere uno di questi Allora Visto che hai Tanta Tanto portafoglio Spezzetta ancora di più Prendi questo WC E spezzettalo Nei suoi settori E così puoi prendere Eventualmente Quello che è salito Per farti la tua Occasione immobiliare Ok Do risposte Alle vostre domande Che differenza c'è Comprare un'azione americana Alla borsa italiana Non conviene Alla borsa Alla borsa Alla borsa Alla borsa L'unico motivo Per comprare Alla borsa italiana Le azioni americane Ok Se vuoi fare il corso Da consulente finanziario Lo devi fare adesso Perché si vocifera Che a breve Oltre all'esame Metteranno anche L'obbligo di tirocinio Di Eh ma Non è che il corso Da consulente finanziario Costa solo 100 euro Cioè io ho guardato Il video di Leonardo Pinna E È stato un travaglio Quello che ha fatto lui Quindi Anche no Cioè mi sembrava Per niente banale No non tanto l'esame Che Ok Dovrei mettermi Coprirmi gli occhi E rispondere alla domanda Sì Giuro di mettere Le obbligazioni In ogni portafoglio E Perché è bene così Eh Però Se Se si fosse da fare L'esame Costa 100 euro L'avrei già fatto Eh Però Mi sa che Leonardo Pinna Ha detto altro Cioè ha detto che servono Robbe Ascrizione All'associazione Di qua di là Di su di giù Ah ecco Poi c'è da iscriversi all'albo Ecco Quello è il problema Perché in realtà Passare l'esame Non ti dà niente 5k Che lavoro fa? Boh Non so Farà il professore associato Nella mia università Boh Netto lodo Io immaginavo netto Me lo dice al mese Si può avere il numero di telefono Di Matilde? Ciao Ciao Yasmina Con 20 anni di tempo Ha 33 anni Non è sensato Sfruttare i benefici fiscali Di un fondo pensione Sì è vero Me ne dimentico sempre Me ne dimentico sempre Eh sì Matilde Fondo pensione Beh oddio Matilde sa investire bene Però Secondo me Matilde è lì lì Però secondo me Le conviene Se Matilde Se sei Dipendente Consiglio fondo pensione Perché conviene Anche se sai investire bene Valutalo più che alto Benissimo Sì penso anch'io Che sia la caparra Andrea Eh Ho iniziato a investire Qualche mese fa E sto investendo 3k al mese In etf global Ho una buona liquidità 300k Che proprio non mi serve Non me la sento Di investire in altri etf All in Su Su etf Guardati Guardati il terzo Dei miei video Sul pack Quello col pack Packman in copertina Lì proprio facciamo vedere La distribuzione Dei rendimenti E così vedi A cosa rinunci Insistendo a fare il pack Quindi a tutta la coda Dei rendimenti alti E cosa guadagni Facendo il pack Quindi Non hai Le perdite basse Però così ti dà un'idea Di quanto Vieni bastonato Sui guadagni Per Poter Non avere Quelle perdite lì E poi Decidi tu Se vale la pena Fare il pack O no Eh Sofia Quanto paga il consulente Sofia Ufficialmente Con Sofia È questa Eh sì Sofia Ah non ce l'ha detto Alla fine Però secondo me Sofia paga l'1% Almeno Uno punto qualcosa Sofia dicelo Teodolinda Testa 38 anni Dipendente pubblica A tempo indeterminato Basta Sofia Ah Metto così Perché Anzi E RAL 30K Mutuo Prima casa 7 e mezzo Anuali Per altri 10 anni Sta così finendo Target Difesa patrimonio Da inflazione Integrazione Futura Misera pensione Ok Patrimonio complessivo 100K Che sta per investire così ETF azionari 60K Su MSCI World 15 Standard È la stessa cosa Sofia lo sai no Adesso si chiama Sofia No Teodolinda Teodolinda Lo sai che Questi due Questo è al 60% L'ho guardato giusto Per fare il video Di domenica Quindi lo registro ieri Quindi l'ho guardato ieri È 60% questo Cioè questo è il 60% di questo Cioè o meglio No Questo è al 60% questo Quindi Stai pesantemente Sovrappesando l'America Poi se ne escono 5K D'Europa Per non essere Metterne troppi 15K D'Emergenti E di nuovo Altri 15 Sì dai Ah quindi Patrimonio ti hai fatto 15 D'Europa 15 D'Emergenti 15 Stati Uniti E il World Ok Continui a sovrappesare L'America Ma ognuno si alloca Come vuole Ok Comunque è più che sensata Più che sensata Questa allocazione Obbligazioni che mi fanno anche da fondo d'emergenza 20K Su BTP Italia Varie scadenze Ok Tu lo sai che questo Questo fatto anche come fondo d'emergenza È un fondo d'emergenza ballerino Perché è vero che è liquidabile Immediatamente Ma è liquidabile immediatamente Anche in potenziale perdita Metti che ci sia un aumento dei tassi L'inflazione resta costante I BTP Italia E le aziende straniere Perdono terreno È vero che tu I BTP Italia Ce li hai a varie scadenze Cioè Quindi Come allocazione di fondo d'emergenza Non va male Non è neanche la allocazione migliore Rischi di dover vendere in perdita Se veramente vuoi usarlo come fondo d'emergenza Però Insomma Ci sta Valutiamo anche il conto Qual era questo qui Dov'è? Chiedi a Matilde C.A. Bank Che se non sbaglio Mi confermate Era il vecchio Fiat Chrysler Automobiles F.C.A. Bank Quindi dovrei avere il conto anch'io là dentro E E.T.C. sull'oro e liquidità Ah Hai anche un altro fondo di Sì Mi sembra una allocazione perfettamente sensata Sensata Sensatissima Sbilanciata sull'America È una tua scelta Ok Sì direi Più che Cioè Però questo non è questo target Il tuo target al momento è Fare soldi Con questa allocazione Sì Non ci limitiamo a difendere dall'inflazione Che altrimenti BTP Italia e basta E io suggerirei anche a te Di valutare Il fondo pensione Fino a 5k Perché potrebbe convenire È vero che con questa allocazione Guadagni più del fondo pensione Però non hai benefici fiscali Però non hai benefici fiscali Quindi Se è questa La tua scopo Valuterei anche a te Il fondo pensione Matilde lavora in Svizzera Eh sì in effetti È solo io non guadagno un cavolo No anch'io 21 anni di istruzione Dai 6 Ai 26 Scusa la domanda oscena Se hanno minusvalenze Su un contotitolo di una banca Sono compensabili Con plusvalenze Presente su altri contotitoli Di altra banca o broker No No L'unico modo per compensarli È chiudere i contotitoli Di una banca Farsi dare la certificazione E dare la certificazione All'altro broker L'altro modo per compensarli È Entrambi i contitoli Passano in dichiarativo E quindi tu a quel punto Vendi, compri, vendi, compri Come ti pare Ti fai un anno in dichiarativo Ti devi smazzare tu Tutti i conti Io l'ho fatto per un anno Ma era E non sto scherzando Tipo il 1999 Un anno del genere E La dichiarazione di redditi Era compilata a mano E consegnata in posta Dubito che qualcuno L'abbia mai aperta e guardata Quindi saranno dentro Di quegli erroracci mostruosi E solo per i dipendenti Conviene il fondo pensione Più che altro Solo per i dipendenti L'ho esaminato Partita IVA Io Non so cosa sia Appartengo al mondo Dei casellanti Eh Ha senso anche per universitari Ma Se hai dei redditi però Se hai Meglio no Se paghi delle tasse Devi pagare neanche tantine Perché meno tasse paghi Meno senso ha Quindi se paghi le tasse Nello scaglione basso Non ha molto senso E se non paghi tasse Non ha senso Eh Non ti piace proprio Svda Che differenza c'è tra Svda E Svda È un MSC World E Che indice segue il VVC So che sto dicendo Ah vabbè Seguono due indici diversi Cambierà poco Può darsi che uno Abbia il 70 E uno il 60% Negli Stati Uniti A me è quello che non piace Cioè perché devo investire Il 60 70% In un solo asset Ce la smeniamo Qui con la Ce la smeniamo Con la diversificazione Giro la rotella Ce la smeniamo Con la diversificazione E poi Tutto in un solo asset Un solo asset No Un solo mercato Un solo indice È vero Un indice Però un indice che Cioè ci sono stati momenti In cui ha fatto Ehm Quello non mi piace In realtà Esiste un fondo pensione Che al momento Del pensionamento Mi liquidi subito In montante Ogni fondo pensione Ha regole diverse Così a naso Di solito Se hai pochi soldi Pochi soldi Vuol dire 50.000 euro Te li liquidano subito Puoi liquidare subito Su Sofia Sono anche a distribuzione Così con quelli Paga il consulente Moji Versione femminile No La versione è sempre Femminile Yolanda Cioè io cambio Sesso a tutte le persone Quindi vuol dire Che non c'è neanche una donna Che mi ha mandato Il coso finora Ti manderò anche il mio portafoglio Grazie C'era ancora Un'altra live Ho sistemato l'Excel Per partecipare Grazie di aver sistemato l'Excel Io comunque Dovrei aver finalmente Finito le vacanze E sei a montare Il totale Inferior a un tot Esatto Farei altri video simili Così poi Ho sottoporto I miei pieni investimenti Ok Sì Il problema è che Più ne faccio Più me li mandate Quindi finisco A fare solo video Quando arriva il panino hamburger Non lo so Quanto guadagna È un professore ordinario Allora l'ultima volta Che avevo guardato Ed era però Tanto tempo fa Un professore Quindi considerate Che sarà stato aggiornato Di sicuro Perché era tanto tempo fa Un professore ordinario In Italia Università statale Quindi quelle da Porazzi Guardagnava Tra i 4 E gli 8 mila euro netti Al mese E adesso Secondo me È stato aggiornato Non posso guardare la mia Perché la mia Dà incentivi extra Addirittura Ne dà anche Ad alcuni Ad personam Non a me A me La dà Minus personam E dà incentivi extra E ne dà anche Ad personam Perché altrimenti Ovviamente nessuno Verrebbe in un'università Così decentrata Però quelle statali Non le danno E l'ultima volta L'avevo guardata Era tra i 4 E gli 8 Al mese Netti Però adesso Sarà sicuramente Di più L'avevo guardati Perché mi sembra Che fosse l'università Di Ferrara Gli aveva messi pubblici Comunque se googlate Abbondantemente Li trovate Se uno ha 200k liquidi Ne investe 2k ogni mese Cosa dovrebbe fare Comprarsi Sì perché Cioè Marco Non è una bestemmia Io guardo il video Che ho fatto sul pack Cioè Siccome il mercato L'idea è il mercato In cui sta investendo In media Cresce Quindi in media cresce Quindi se tu ritardi L'investimento In media Stai guadagnando meno Cioè stai Ritardando l'investimento In un asset Che in media cresce Poi puoi andarti di fortuna E proprio in quel momento Si abbassava Quindi alla fine Ti è andata bene Ma visto che l'asset In media cresce Visto che altre informazioni Non ne puoi avere Quindi non puoi sapere Se sarà così La crescita O così Tu rischi di perderti Il così E siccome in media Cresce il così È più del così Quindi sì Sembra incredibile Ma entri a botta Io sono entrato a botta Mi ricordo La mia banca Che aveva sgranato gli occhi Quando gli ho dato Ho dato ordine d'acquisto Di azioni a caso Su mercati europei I libri stasera Sono particolarmente realizzati Sempre quelli Volevo cambiare La foto dietro E mettere E mettere Quella dell'altra location In modo che poi Voi non sappiate mai In che location Sono se non dal colore Della sedia Perché quello Non ho potuto cambiarlo Aiuto Cosa succede Se non compenso Le minus Niente È come avere Un beneficio fiscale È come avere Che so Il bonus Per il centro massaggio E non andare A fare il massaggio Non ha senso Nella mia analisi Il fondo pensione Riccardo È configurabile Quanto l'azienda Versa per te Io poi Ho ipotizzato Quello che di solito Versano gli enti pubblici In provincia di Trento Ma ho scoperto Che invece Nel resto Nei fuori italiani Ha fette grosse Incentifiche Dal datore di lavoro Cioè Mi è arrivata Notizia all'orecchio Da fonte certa Uno che lavora In un CAF Di un Un datore di lavoro Che dà Il 7% Cioè ci mette lui Il 7% Di tasca sua Quindi Configuratevelo È una percentuale Maurizio Grazie per i complimenti Ma L'investimento L'ha fatto Amazon Non io No Portafogli di ETF Tipo Etiker migliori No Perché Non sono così tanto Esperto Sugli ETF Questo dovrebbe farla Mr. Rip Secondo me Glielo poporò Anche se lui Video non ne fa Io li compro Sparando a caso Perché io ho bisogno Anche di diversificare Sull'emittente Non mi fido Neanche dell'emittente E ho fatto bene Perché con quelli russi Due emittenti Me li hanno liquidati Ma una no Quindi vuol dire Che gli emittenti Si comportano Anche diversamente Per chi oggi Ha un fondo obbligazionario In negativo Ma non gli servono i soldi Cosa conviene fare Io ho tanto Per non portarsi a casa Le minusvalenze Adesso che le obbligazioni Mi rendono Adesso che forse Dico forse Potrebbero Scendere i tassi Lo otterrei Se fossero soldi miei Lo otterrei Sono indietro Sto recuperando la live Anche a me succede Inizio il live Mezz'ora dopo Guardo a due per E dopo arrivo Finalmente in linea L'Italia è un bel paese Bagnato da tre mari Pusciugato da tre monti Un ordinario Doveva fare 70k anno lordo Si potrebbe essere In linea Con quello che ho detto No Secondo me Fa di più Forse Che ne penso Del Labofond Come fondo pensione Per i dipendenti pubblici Ah beh Non c'è scelta Perché il Labofond Se non sbaglio È il fondo pensione No Il fondo pensione È obbligatorio Per chiunque lavori In Trentino Alto Adige Quindi non è che dipende Da che lavoro fai Se sei residente Del Trentino Alto Adige Il tuo fondo di categoria È il Labofond Cioè non è che Puoi scegliere Sì puoi scegliere Di fare un altro Poi non hai il contributo Del datore di lavoro Quando non hai il contributo Del datore di lavoro Non ci puoi fare niente Comunque è un fondo Come gli altri È un fondo come gli altri Grossi costi Alto consumo investi Lo elogio ogni tanto Ne ha fatto un'analisi Di recente Lo elogio ogni tanto Quindi rispetto agli altri Magari va meglio Però è difficile Studiare come investe Perché non hanno La palla di cristallo Neanche l'oro E anche l'oro Può darsi che Non hanno investa bene Non hanno investa male Quindi secondo me Bisogna puntare Molto più a guardare i costi Ma perché io pronuncio male Pensione Fondo pensione Adesso controllo Pensione Trascrizione Fonetica Voi non sapete Ma io ho fatto anni Anni di Queste robe Come pronunciare Pensione in italiano Vediamo come lo pronuncia Hermes Pensione 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 o pensione 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 lo pronunciano qui Pensione Pensione Prossima Alla pensione Questa c'ha un accentaccio Non vedo l'ora Di andare in pensione Per godermi Fanno Sibilare Quindi Sibilano la S Pensione Quindi dicono Si pronuncia Pensione In italiano Quindi con la S Che somiglia a una Z Basta Mi state scrivendo troppo Dipendenti statali Che vanno in pensione Vivere all'estero Pesi Tassazione Zero Prendranno lo stipendo L'ordoro La pensione Verrà tastata Igualmente in Italia Ci sono strane regole Accordi Roba del genere Alto consumo Investe Anche qui Si è messo a fare Delle analisi Conti deposito Al momento Non li analizzo Durante il secondo Roba del Da un giusto 47% Aiuto Salto un po' di roba E mi fermo qui E passiamo al prossimo Opete Perché abbiamo Roberta Pellegrino Roberta Pellegrino È una donna Di poche parole Tac E non mi mette Neanche Porca puzzola Cliccabile Ma pure mi ha dato Un'immagine Basta Roberta Non ci c'è altro Vabbè Vanlife 60 Cos'è questa roba Allora Adesso mi devo copiare Cara Roberta Roberta Mi devo copiare A manina LU 0 5 3 3 0 3 2 8 5 9 Cos'è sta roba Roberta Ho paura World Financial Tr Replication Swap 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 Based Ah usa gli swap Ok Financials Ok investe in robe finanziarie Fact sheet Sarà sicuramente Roba americana Stati Uniti 57 Berkshire Hattery JP Morgan Visa Mastercard Ok L'altro All'altro Hill Saranno cose Relative a Healthcare BTP Italia Cioè Amica cara Come direbbe un senatore Amica Ve lo allargo Perché vi lamentate Che non vedete Amica cara Che ti devo dire Cioè allora Perché un Van Life Con dentro il 40% Di obbligazioni Sull'80% Del portafoglio Peraltro E non Scorporato in due pezzi Così se vuoi puoi vendere L'altro pezzo Cioè Cosa ci fa Con l'ETF Obbligazione BTP Italia Scadenza 2024 Io suppongo Che il 10% Del tuo portafoglio Quindi ti serva Entro il 2024 O potenzialmente Potrebbe servirti Va bene Poi Due cose Giusto per Dare un po' di pepe Al portafoglio E poi invece Giusto per seppellire Tutto il pepe È un bel ETF Vanguard Life Strategy 60 Quindi 60 azioni 40 obbligazioni Uno Se tu vuoi vendere L'apparato obbligazionaria Marameo Non puoi farlo E due Perché buttarci Un 40% Di azioni Di obbligazioni Che peraltro Non puoi mai vendere Quindi secondo me Non ha senso Bocciata Bocciata Se proprio vuoi Non so Dipende Perché c'è quel 40% Di obbligazioni qui Che di fatto Sono un Circa un 30% Del tuo patrimonio Perché non comprarsi Un 30% In obbligazioni O al limite In un fondo obbligazionario E basta Roberta Non uscice altro Ai migliati Non vuole farlo sapere Vuoi investire 273 euro totale Probabile Che abbia miliardi Perché ho notato Una forte correlazione Inversa Tra il patrimonio Che avete E quanti asset avete Più basso il patrimonio Più asset avete I miei etf Di vari emittenti Sono tutti come Banca depositaria State Street Oddio Adesso non mettetemi Anche nuova paura Sbloccata A causa di M.L.I Allora dovrò Comprarmi etf Che abbiano Una diversa Banca depositaria In realtà Non è il problema Se fallisce La banca depositaria Perché in teoria La banca depositaria Non dovrebbe Aver Pappocchiato Quegli etf Cioè gli etf Avrebbe dovuto Lasciarli lì Non ha L'autorizzazione A spostarli Però nuova paura Sbloccata Quale emittente Non te l'ha liquidato Mi costringete Adesso Approfitto del fatto Che non state vedendo Il mio vero portafoglio Segretissimo Mai Adesso vado Sul mio portafoglio Segretissimo Comunque Che hai visto Live di Mr. Rip La dovrebbe aver visto Quale emittente Non me l'ha Andiamo sull'etf russo Etf russo Eccolo qui Lixor Lixor A me risulta Che non me l'abbia liquidato Ai shares E mi sembra a Mundi Me l'hanno liquidato Non so neanche se dire Str Ad ai shares E a Mundi O a Lixor Perché magari Lixor Non me lo liquida più Me lo trovo sul gruppone Per sempre Un ordinario Viaggio come trattamento Finanziale Da 66-90k Ma al giorno d'oggi Molti non ci arrivano Diventano ordinari tardi Oddio non mi risulta Non hai la S-30 È normale Prova a dire ascensore Ascensore No non ho l'accento trentino Io A Bolzano non c'è l'accento trentino Non è come lo pronunciano così lì Si dice così Ma tu continui a dire pensione Ma adesso Sacrippante Allora Word reference Word reference Pen Pen Lettera One Ok Trascrizione fonetica Ascoltiamolo in Italian Non si capisce che S Lento Più lento Vediamo la trascrizione fonetica Ce l'abbiamo da qualche parte Stiamo andando sul fonetico No non trovo la trascrizione fonetica Vabbè Tensione Tensione Mi sembra che dicano S similante No Qui la dice similante Non come la Z Vabbè Pensione si pronuncia come intenzione Io tensione la pronuncio con tensione Pensione Quindi non pensione Ah io dico pensione Non pensione Quindi si pronuncia con la S che somiglia alla Z Pensione Sole S di sonne Ma sonne e sole hanno la stessa S Fab Foto Sonne e S Ah in alto a destra Mi dicono che c'è la Eccola qui Sì adesso bisogna vedere questa qui Che suono ha Allora vediamo la S di sole Come è fatta È la stessa S di sole Quindi sole Pensione 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 Ok Sapore Basta Io voglio vedere se con Mr. Rip fate ste robe Ehm Ok Vedo che ci sono varie mette Ok Avanti col carro Mascia 33 Non so Mi aveva scritto 33 Come cognome Pensione Pensione Allora Nuova paura sbloccata Nuova maniera sbloccata Pronunciare la S è giusta 24 anni Studentessa universitaria Pac 800 trimestrali Su Vanguard 80 Sapete come la penso di questo 80 Su directa Orizzonto è potenzialmente infinito E allora perché 80 Mascia Ulteriori spiegazioni nel doc Ah no Questa Mascia È la stessa Che abbiamo avuto ieri Da Mr. Rip Ed è Un Non è Se io ricordo bene È un medico Per chi c'era ieri da Mr. Rip Questo è un medico Quello che è andato a leva su di giro È un medico mi sembra Non me lo ricordo Vabbè Adesso magari Ieri ho detto le robe Oggi ne dico completamente diverse No no Paco Paco Baito No no C'è una cosa ufficiale La lingua parlata a Firenze Dagli intellettuali dell'ottocento Quindi bisogna recuperare quella Tranne la C Che invece Ok Questa qui è la persona Che ieri ha mandato la La stessa La stessa sheet Me lo ricordo Tra l'altro Faccio notare che a Mr. Rip Gli ha mandato sbagliato A me l'ha mandato Giusto E me l'ha mandato prima Perché qui il totale Non l'ho corretto È giusto L'unica cosa Che gli contestavamo ieri È che Questi 27.500 Non sono 27.500 Sono meno Lui praticamente Ha 10.000 euro Di Etf Vanguard 80 Su de giro Cosa ha fatto Ha chiesto Un margin loan Vuol dire Ha chiesto a de giro Di poterne prendere Altri 4.000 A prestito Mettendo questi 10.000 A garanzia Quindi ha usato Questi 10.000 A garanzia Ne ha presi altri 4.000 A prestito Ci paga il 4.500 Che E questo lo diceva anche Sua Mestà Pietro E non è poco 4.500 Cioè quanto rende Il Vanguard 80? Rende come L'80 azionario E 20 obbligazionario Cioè non è che Non è che rende netto Più del 5 5.500 Quindi I tassi Stanno salendo Ogni 6 mesi Esatto Secondo me Questo qua Non gli conviene Non gli conviene Avere questi 4.000 Di margin loan E soprattutto Come gli ha obiettato Il mister Qui Non contiamoli Come asset Cos'è il margin loan? Il margin loan È quando tu metti Dei tuoi soldi A garanzia Prendi altri soldi In prestito E fai un investimento Lui ha messo I suoi asset A garanzia Comunque sono suoi Sono impegno Comunque Se aumentano di valore Aumentano di valore Gli ha messi a garanzia Ha chiesto 4.000 euro Di prestito E ne ha comprati Degli altri Si può fare Qual è la cosa rischiosa? La cosa rischiosa È che se Per caso Vanguard Non succederà mai Perché un Vanguard Oddio Non so mai Se per caso Questi 10 10.000 Per motivi Finanziari I mercati Crollano E arrivano a valere 3.500 De Giro Arriva da lui E gli dice Ciccio Tu hai preso 4.000 euro In prestito Il tuo Collaterale Vale solo 3.500 Sai cosa faccio? Io te lo vendo E ti sequestro Pure 500 da qui E quindi ti vende In perdita Ti liquida Quindi questo è il rischio Grosso Non lo corre lui Però ci paga anche Un 4.500 Di interesse Nessuno commenta più Quindi sarà collata La live Di sicuro Andiamo a controllare Devo controllarmi Da solo Se è collata La live Ah no Non è collata Togliamo la live La live è viva? Sì è viva Ok Sì è andato a leva Per il live Cioè infatti La cosa che gli ho contestato ieri È Ciccio Tu vai a leva A leva Cioè quindi Fai sta roba E non è che compri Criptovaluta O chissà che cosa Per fare un bel guadagnone No Il live strategy 80 Compra al massimo Andiamo a cambiare Di portafoglio Se è proprio Proprio Questo Poi questo Lo tieni come collaterale Ma Dico Almeno questo E se non Qualcos'altro O anche Visto che Ecco Ok Poi Per ridurre L'esposizione US Ha comprato Sta cosa Ieri L'abbiamo guardata Ma la riguardiamo Anche oggi Vediamola Ah World size Factor Uh Ieri Gran discussione Su questo No no Io Riccardo Io Sconsiglio Il pack Mensile Per chi Ha già I soldi Per chi Non ha i soldi Vale esattamente Il contrario A loro Consiglio Il pack Mensile Perché Investono Prima Perché L'idea È L'asset Sta crescendo Altrimenti Non ci Investirei Io ho speranza Che Cresca In media Mi conviene Investire Prima Possibile Ovviamente Stando attenti Alle commissioni Quindi O beccate Un broker Che vi fa Commissioni Zero Quasi Altrimenti Aspettate Di avere Dei grossi Blocchetti Ok Sì sì Ieri C'è stata Gran discussione Su questo Andiamo a vedere Il fact sheet Perché non me lo Ricordo più Cosa fa Vabbè Stati Uniti 41 Giappone 16 Sovraesporto Sul Giappone Sappiamo anche le aziende No perché È un equally weighted Quindi investe in World size factor Vabbè L'abbiamo già discusso ieri Comunque è già stato Ampiamente bastonato Ieri Nel frattempo mi si è aperto Excel Ok Quindi Zni Ah e questo è quello Che aveva Alfonsino Questa è Alfonsino Una famosa azienda Di delivery Specializzata in campagna Perché ho visto le Ho cercato ieri Di acquistare Anch'io Ma Trettino Altrati Già Alfonsino Non c'è Specializzata in campagna Me ne hanno parlato bene Come Servizio Non come azione Come azione È una Extremely Small cap Particamente Ripa Calcolato Che tra un po' Può acquistarla tutta E quindi Niente Questi Io spero Che gli servano Solo per ottenere Per ottenere La carta di credito Perché altrimenti Tenerli su Crypto.com 3000 euro No 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 È fallito FTX È vero Crypto.com Sembra più solido Ma anche FTX Sembra molto solido Però Viste che sono In questo ordine Direi che non ti servono Per la carta di credito Questi ti servono Per la carta di credito Questi non vedo Nessun motivo Per tenerli su Crypto.com Nessuno Liquidità 6000 euro Ok Qui a differenza di ieri Vediamo la sua simulazione Di questo margin loan Se gli serve Ora Vedete cosa simula Soldi presi in prestito 2005 5000 Lui simula Di prendere in prestito Ogni anno 2005 in più Però Sta anche simulando Che il suo investimento Totale Immagino comprensivo Del margin loan Aumenta Quindi gli sta simulando Ogni anno Gli butta dentro 2005 E ne chiede 2005 di prestito Aspetta No Gli butta dentro Ogni anno Cosa fa Questo casino Qui siamo a 20.000 40.000 Qui ne chiede 2005 di prestito Eh sì E ne mette dentro 2005 lui Quindi ogni anno Ne mette dentro 2005 lui O Per qualche motivo Cresce il 2005 E ne chiede 2005 di prestito Ok Prestito annuale Ok Valore totale Ecco E poi lui lo simula Però Sprendendo il rendimento Di Per quale motivo Dovrebbe crescere Come questa cosa qui Questo enorme Valore totale Cioè 5 16 26 34 48 57 Quindi si Ah ecco Prende la reference Storica Quindi ha preso Dal 2002 Ora Non è così Che si fanno queste cose Perché questo è un caso Adesso lo devi rifare Partendo da Gennaio 2002 Febbraio 2002 Marzo 2002 Aprile 2002 E poi magari anche partendo dal 83 84 85 86 93 Così va fatta una simulazione E vieni tutto il ventaglio Delle robe Perché con una sola Ok Ti è andata bene Hai Ok il primo male Ma poi hai inanellato Una serie di rendimenti buoni Poi uno male Una serie di rendimenti buoni Cioè devi fare altre simulazioni Devi fare tante di simulazioni Per vedere se è sensata Perché con una Ok va bene Mi fido Funziona Quindi il tuo La tua teoria tecnica Del margin loan Che è diciamo simpatica Perché al momento Non ci sta guadagnando tanto Però se gli va bene Ci guadagna tanto Devi farti tutte le simulazioni E vedere in particolare Quelle su cui vai male Quante sono Vediamo Dai un messaggio privato Sti spesso assieme Quindi adesso Inutile che io diversifichi Tra Mundi e Lixor Quindi mi trovo Sovraesposto Su Mundi e Lixor Ok Non è crollata Chi? La live Ah grazie La live Siamo qui Ci siamo Appena iniziato a lavorare Zero soldi da parte Ah no Questo qua Già risposto Oggi ha fatto più dodici Chi? Alfonsino? Alfonsino non consegna Fino a Bolzano No Cosa ne pensi L'azione di poste italiane Non lo so Non analizzazioni singole Chiedete a Pietro Come si può trovare Un consulente finanziario Affidabile? Io tutti quelli Indipendenti Che ho sentito Hanno proposto Soluzioni Sensate E mai costose Magari Non condividevo Sovraesposto America Perché c'è L'ETF Obbligazionario Ma stiamo andando A fare le pulci E c'è L'albo Albo Dei consulenti Finanziari Autonomi Le commissioni di acquisto Si dichiarano come minus Eh questa è una Sugli ETF Che avete venduto In attivo Spare di sì Almeno De Giro Lo fa Mi hanno detto Che lo fa anche Directa Sì Directa Mi hanno detto Che lo fa anche Directa Io non le ho mai Fatte così Le commissioni d'acquisto Se l'ETF L'ho venduto in attivo Se c'ava Come si dice Qui in zona E l'ho scoporato Da guadagno Brutale Brutale Che non è una rendita Che non avrei Forse neanche potuto E invece Su Su Quando lo vende In passivo Lì Va nel passivo Se volessi acquistare 15 In un ETF Conviene Frazionare la somma 5,5,5 Beh Se vuoi acquistare Solo Vanguard All World Acquista 15 Di blocco Punto Se no 5,5,5 Se vuoi spezzettato E le fatelo da solo Americano Europeo Emergenti Cos'è ROTLX Se compro così Le commissioni Della metà Con banca intesa Dov'è la fregatura? Probabilmente Banca intesa E' uno dei soci Di ROTLX ROTLX Probabilmente E' una borsa alternativa Scusate Perché le borsa alternative Nascono e crescono Come i funghi E' un segmento Di borsa italiana E' c'era in inglese Aspetta Mette in italiano Adesso è diventato Un segmento Di borsa italiana E non è un segmento E' gestita Sempre da borsa italiana Ma non è la borsa italiana Puoi comprarlo Guarda Guarda che sia scambiato Abbastanza Sì sì E' un pezzo Di borsa italiana Ma non è la borsa italiana E ha i suoi segmenti BondX Equity Vediamo cosa ci Ah Azioni USA Fa interessante Vediamo che azioni Area Aero Fa Ma insomma Ce n'è Ok Alfonsino Più 12 Dopo la live Coincidenza Secondo me no Ah mi raccomando Lo sponsor L'azione sponsor Della live è Zignago Vetro Io sono povero 200 euro in portafoglia Esatto Quanti k euro Ha senso diversificare Yolanda Dipende da quanto paghi Di commissioni Se non paghi commissioni Puoi anche diversificare Sulle centinaia di euro E se ti diverti Io Tengo come blocco Dai 2 ai 5 mila euro Dipende da Quanto faccio Sì 2 anche no 5 prevalentemente Oggi ho incontrato Il consulente Vediamo cosa propone Bene Monica Io penso Quasi tutti i consulenti Autonomi consigliano Una parte Sì Quello è inevitabile Che i consulenti Autonomi Ci cacciano dentro Gli etf obbligazionari Anche se gli giuri Che per 20 anni Non toccherà i soldi Eh Gli hanno insegnato così Gli emittenti Sono pochi Eh sì Gli emittenti Sono pochi Blackrock Vanguard Amundi Xtracker Lixor Che è di Amundi Adesso HSBC UBS Invesco Wisdom Trivanek E iShares Di chi è Anche SPDR iShares È uno di questi È di Blackrock iShares Penso Buonasera Password Ok Ognuno sceglie Nick che vuole Ok Vediamo Gianni Morandi Si chiama lui Gianni Morandi Cioè si è chiamato lui Quindi penso sia un nome finto Spero Anche perché Gianni Morandi Non ha 23 anni È un pocito Elevarsi in ingegneria Biomedica Compaio Ci sarà la seguità Il figlio di Gianni Il nipoto di Gianni Morandi Vivo con due persone Più o meno anziane Che mi pagano tutto Ma ogni tanto Brontola Io ho già letto Questo inizio Non so se gli ho risposto Privatamente O Aia 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 Gianni Non c'ho il Google Sheet Ah si no Gianni Allora te l'ho già risposto Mi sembra Si si Ti ho già risposto Avanti Se non ti ho risposto Riscrivimi Gianni Morandi Maestro Papiro Non sapevo come chiamare Si è chiamato così Tipo Una cosa simile Portafogli di lungo periodo 41 anni Casa di proprietà Punto uno stipendio integrativo Con gli investimenti E quindi Tutto è improntato A cedole e dividendi Ma perché Si può tranquillamente Vendere Gli strumenti finanziari Non è una bestemmia Io chiedo adesso Ufficialmente A quelli che Che usano le cedole e i dividendi Proprio come integrazione Lo stipendio Ma Vi arrivano giusti Cioè Vi arriva La quantità giusta Cioè Ne troppo Ne troppo poco O vi arrivano Come penso che sia A cazzo Cioè A maggio Una botta A giugno Niente Perché Probabilmente è così Perché a maggio Di solito in Italia Per il periodo di pagamento Dividendi Perché io ho i miei dubbi Perché vi arrivi Un flusso giusto Vi arriverà un flusso Di un'irregolarità Pazzesca Ok Che mi entra su conto E non accumulo Ho messo sotto La leggenda Di vari etf Così non devi cercarti Un online Bravo Premesso che Solo ora sono entrato Su BTP A tasso fisso Mi mancherebbe Ah E' in fase di valutazione Cioè Quindi non l'ha ancora fatto Ok Non l'ha ancora fatto Lui vuole Un 50 Oh Così mi piace Anzi mi metto Dall'altra Ah però Non mi vedo più Dove Accenti Non ho Non ho fatto La cosa Anche Repliche Titoli azionari Dei paesi sviluppati Emergenti Di tutto il mondo Ok Va bene Perché RL Avrà qualcosa Di leggermente Diverso E Cos'è questa Un'Europa Escluda UK Repica Le rate Quindi Rate Paesi sviluppati Rate Americani ed europei Senza Regno Unito Ricorda Fatte Regno Unito Ok Comunque Questo è il 50% IPRP 5% VL Europeo Ok IMBD Dove c'è il 5% Emerging market Bond Ah perché lui vuole Le cedole Eh vabbè Se vuole le cedole Non possiamo farci niente Dobbiamo piegarci È un dato meno Integralista Con ste robe Una volta Una cosa del genere Mi sei alzato E tirato giù le mutande Mi segno di disgusto Ok Sì vabbè Viene Ah ecco Questa arriva mensilmente Quindi questa C'è un flusso costante E poi quello C'è là High dividend yield E questo Ci sta Quanto ne ha 5% Anche questo Emerging market Va bene Non è neanche Sbilanciato Sì è un po' Sbilanciato Ma questo Mi inquieta Che differenza c'è Con il solito VVCE Che è a distribuzione E quel RL Cosa vorrà dire Ah replication sampling In italiano Sampling si dice Non ce l'ho in italiano Sembra essere Sintetico Fact sheet United States 60% Il solito Un classicone Ok Non è neanche 3 Sbilanciato Stati Uniti Ma non troppo 20% In BTP Cioè Davvero Vediamo Se vuoi le cedole Metti in steco Se erano fisse Fai picchi di Ascol Sti giù le mutande Sì E UK È uno dei paesi Migliori Ah ok Come il VVCE A distribuzione Giusto Sì lui Mi sembra che voglia Le entrate E questi qui Vabbè Gli li perdoniamo O no No Non glieli perdoniamo Dai Cioè Rendono Meno delle azioni Te li devi comunque Tenere fino al 2067 E non te li Per questi Non te li perdono Te li devi comunque Tenere fino al 2067 Mi sembra la tua filosofia Rendono meno delle azioni E non sono neanche Tanto vendibili Perché Se per caso Prendono una botta Sui tassi O una botta Sulla fiducia Dell'Italia Sti qua ti cadono Tranquillamente A 90 A 80 E E E rendono Meno delle azioni Uff Tamania di avere I dividendi Allora Dati i soldi a me Vi do la paghetta E poi Investo io Potrebbe essere un'idea Però si chiama Intermediario finanziario Così non si può fare Una volta uno Me l'aveva proposta Gli detto Sì Mi finisco in galera Ok Il problema è Questa tua fissa Di volere sta cosa Cioè io Me li prendo i dividendi Cioè ho bisogno Di fare il tetto Pam Via Si vendono 10.000 euro E ho venduto 10.000 euro Di etf messicani In attivo Ho pagato un botto Di tasso La plusvalenza Me li prendo i dividendi Vabbè Ok Sì comunque Se vuoi i dividendi Hai il mio benestare Qui Io sarei andato Sulle azioni Sarei andato Sulle azioni È vero che comunque Sta roba Meno di 80 Non va E poi magari Eventualmente Te la tieni E tuo nipote La venderà Quanti anni ha? 41 Quindi tuo figlio La venderà Però Non mi rende contento Puoi dire Qualcos'altro Per convincermi Che sbaglio Di investire In azioni Da dividendo No Azioni Da dividendo Va bene Cioè nel senso Perché in teoria L'unico motivo Che ha un'azienda Per esistere È perché Paghi i dividendi Perché un'azienda Che non paga i dividendi Perché ci devo dare Mettere dei soldi? Sì Lo so perché ci devo Mettere dei soldi Perché così Prima o poi Qualcuno vorrà Scalarla Per diventare Il re del mondo E produrre i telefoni Con la mela Solo lui E quindi Mi comprerà le azioni Ma solo per quello Perché in teoria Il dividendo È l'unico motivo Per cui un'azienda Dovrebbe esistere Il problema È che Se è possibile Il dividendo Se lo rinveste L'azienda stessa E questo Già fa sì Che poi Non lo paghi Però se è un etf Se è possibile Lo rinveste da solo Perché così Dilazione Il pagamento Delle tasse Guardatevelo Ho fatto due video Su accumulo Distribuzione Parte 1 Nella parte 1 Faccio vedere Chiaramente Come pagate le tasse Quando percepite Un dividendo E come pagate le tasse Quando vendete Un asset E lì si vede Che la differenza È minima Nella parte Però c'è differenza Già Nella parte 2 Ho fatto vedere Come questa differenza Che era piccola Nella parte 1 Può capitalizzare Nel tempo Quindi ci sono certi casi In cui capitalizza tanto Però comunque C'è differenza Di tasse Cioè Le tasse Pagarle dopo Pagarle prima Fa differenza Con il dividendo La pago su tutto Il dividendo Invece se vendo Non la pago Su tutto quello Che vendo La pago solo Sulla parte Che mi è andata In guadagno Quindi su molto meno BTP bocciato Puoi dire Eh ok Questo Quindi L'azione da dividendo Ha senso Perfettamente Quindi un Un etf Che investe Su high dividend Va benissimo Se però High dividend Ad accumulo Ancora meglio E Sull'azione singola Ci abbiamo Un altro motivo Avete mai ricevuto Un dividendo Dagli Stati Uniti 15% Di tasse americana 26% Di tasse italiana Cioè Girano anche le palle Ma girano Vorticosamente Ma alla grande Cioè veramente Mi sono rotto E in certi altri paesi È molto di più Tipo 26 e 26 Cioè Che due scatole Prendo comunque Azioni sottovalutate A dividendo Ok Sampling Campionamento Ottimizzato Eh ok Lo so Il problema Paolo È cosa vuol dire Un sotto insieme Perché come ho detto Una volta In matematica Un sotto insieme È anche L'insieme vuoto L'insieme vuoto È un sotto insieme Di ogni altro insieme Quindi c'è proprio dire Che ne compra anche 5 Ok Immagino che non sia così Ne comprerà almeno la metà Però oddio Magari ne compra solo il 10% Cioè Comunque è parzialmente coperto Lo so che Sampling è campionamento Grazie Eh Ho insegnato statistica Se vuoi le cedole Metti stake Di soluzione Obbligazione Certificate Cash collect Il grosso è maggio Ma i dividendi Distribui tutto l'anno Sì Alcune azioni Distribuiscono 4 volte In un anno Me ne sono accorto Soprattutto quelle straniere Bestemmiavo Perché all'epoca Avevo Banca Sella Che è una delle poche Che fa pagare commissioni Sull'incasso dividendi E prendevo Oltre alla doppia tassazione Anche 4 volte le commissioni Un giramento di Ok Passiamo a Nicola XX Stiamo andando veloce 41 anni Libero professionista Sposato per ora Senza figli Casa di proprietà Non ho prospettive particolari Grosse spese Nei prossimi anni Ah di particolari Ho iniziato il mio investimento Circa un mese fa Con l'obiettivo ambizioso Di raggiungere il fire A 60-62 anni Se ti dico che mio padre È andato in pensione Molto prima A proposito Grazie agli utilissimi video Del riguardo Broker director Portafoglio Portafoglio Questo è quello dell'altra volta È quello suo È questo IWSZ Per lui cos'è IWSZ Usa Molto Sì Me ne sono accorto È molto sbilanciato Sugli Stati Uniti A te la scelta Guarda il video domenica Come ti chiami Nicola Guarda il video domenica E vedrai Se Il rischio È essere sbilanciato Sulle Stati Uniti C'è un circa 6k di bitcoin Tramite un'ETC Uno che non Che non piangerà Alla prossima dichiarazione Di redditi A proposito Io devo ancora farla Devo ancora farla Sto aspettando Di fare un video Con un gestore automatico Di ste robe Per farla In prospettiva Provedo di poter raggiungere L'investimento Un importo Capito 17-20k all'anno Tramite ingressi domestali Ok È sensato Sensato Tu sei ben conscio Di essere sbilanciato Stati Uniti Più che sensato Direi che ci sta tutto Ci sta tutto Alla mia approvazione Non hai spese previste Ahia L'ETF obbligazionale A lunga scadenza Ah Abbiamo uno Che sa Cosa fanno Le banche centrali Abbiamo uno Che sa Ciccio Se tu sai Cosa fanno Le banche centrali Se i tassi Aumentano Del due punti Magari uno Un punto Quest'anno Un punto L'anno prossimo E poi si stabilizzano Fissi a un 6-7% Come è successo Per tanti anni Anzi per tanti anni Sono andati ben oltre Non lo sappiamo Comunque Ci crediamo tutti Che i tassi calino Però Sai 9 volte su 10 Quello su cui ci crediamo Succederà Una volta su 10 Non succede E quella volta Ti trovi Poi i tuoi ETF Obbligazionari Che ci mettono Altro che una duration Due duration Per recuperare Ah pure a lunga scadenza Ok Quindi ci mettono Una vita E fa schifo Un ETF Ah no Perché tu vuoi proprio Speculare sui tassi Vabbè Oh se vuoi speculare Sui tassi Chi sono io Per impedirlo Questa però Ben conscia Che è una speculazione È la cosiddetta La chiamo La speculazione debole Qui c'è una speculazione Che Di solito Normalmente La speculazione Fallisce 9 volte E la volta Che fa successo Ti fa un botto Di soldi Invece questa È la speculazione debole Funziona 9 volte E ti dà pochi soldi Ma una volta fallisce Quella che È di solito La gente ama La speculazione debole Perché Sono più le volte In cui è successo E spera di essere In una di quelle Ok Prima di Gesualda Villa Vediamo un po' di Question and answer Apple da dividendo No è noto Per non darlo Ho dei buoni postali Del 96 Trentennali Eh Esatto Io purtroppo Ho finito i BTP Dell'epoca Io li avevo Ereditati Ereditati Presi in consegna Dalla mamma I BTP Quelli che davano Soldi Addirittura Avevo trovato All'epoca Quando sono entrato Nei mercati finanziari Delle obbligazioni Che erano tassate A zero Cioè non avevano tassazione In virtù di qualche Accordo strano Internazionale Ho 73 anni Ho 73 anni E avevo un consulente Una banca Comincia per F Finisce per Eco Feder Feder Consumeco E mi ha acquistato 580k di ETF In bond Che perdono Quando è che te li ha acquistati? Cinque anni fa Cinque anni fa Potevano anche starci Perché non poteva sapere No Cinque anni fa Già i tassi erano bassi Quindi E che te devo dire Cinque anni Io mi spiace Il video Non l'ho fatto prima Però io mai Poi mai avrei pensato Che ci fossero pazzi Che acquistavano ETF obbligazionari Con i tassi così bassi Quando la mia banca Me l'ha proposto Gli ho fatto un marameo Apple non dà dividendi Sì esatto Qualche esempio Di ETF Dividendo accumulo Ma c'è scritto Di solito Sono metà e metà Mi conviene Venderli e rivestirli In altro modo? Ah Adesso In cui tutti dicono Non io Ma tutti dicono Che i tassi Caleranno Forse è conveniente Nerli Se comunque L'ETF riesce a replicare Bene il rendimento Dell'indice Viene nulla di male Nel campionamento ottimizzato Sì Il problema È Il fallimento Sì sì Senza dubbio Ma bisogna vedere Di quanto riduce I costi di gestione Se mi riduci di poco Portofoglio Portofoglio 400k Totali Sì Puoi tenerli Se non ti servono Daniele E questo Tra l'altro È un consiglio finanziario Che posso dare Perché la legge Mi vieta Di darvi Delle sollecitazioni Operali Quindi se mi dico Stai così Posso darlo Posso dirlo Quindi quando non dico Niente In realtà Sto pensando Di suggerirvi Di modificare Ti viene Grazie per il tuo video Per i tuoi excel Mi hai fatto appassionare Per i tuoi investimenti Approfitto per farti Una donazione Ah no Per farmi una domanda La mia vicina È in pensione A 40 anni Pensione Pensione La stessa Investire in euro E USA Sono fortemente Connessi Dobbiamo fare Il grafico Possiamo andare A vedere il grafico Se volete Sì sono Molto connessi Ma non Così fortemente Oddio ragazzi Sto Investimento A breve termine Uno Un anno e mezzo Due Sì io Andrei sul conto Deposito Senza farmi Tante seghe C.A.Bank Sì adesso È quello che va Per la maggiore I tassi non calano più Dice Francesco Quindi Francesco Non la pensa Come noi Posare Minusvalenza Su un etf Per compensare Plusvalenza Un altro etf No Oppure su un BTP Su un BTP Sì Solo io Vedo rischiose Molte obbligazioni Anziché le azioni Pure semplici No anche io Ho paura Delle obbligazioni Perché le obbligazioni Rendono poco Tutto sommato E possono azzerarsi Così Zaccete Mentre l'azione Non è che si azzera Massimo ti perde Il 50% Diciamo Sì A meno che non sia La Parmalat Guarderò live più tardi Ti becchi la pubblicità Adesso appena finisce Ve ne infilo Una Ah se vedete pubblicità Ogni 5 minuti È YouTube Io la metto Ogni 20 Di solito Apple da dividendi Google no A me risulta che Apple non dia dividendi Ma comunque Vabbè Posete guardare Basta cercare Non c'è problema A mia zia Gli hanno proposti Lei ingenuamente Gli ha accettati È che Vi devo dire Cos'è che Ha accettato Però Apple Gli ETF Clean Energy Conto chi gioca Stasera L'Atletico Loop Investo Su standard Pura leva 2 Cosa ne pensa Io ho fatto un video Sulla leva E fino a leva 3 Funziona Bene Il problema È quanto costa Adesso devo fare Un altro video Su quanto costa La leva Quindi devi attendere L'altro video Sì che da dividendi Apple Ah lo dà Ok niente Allora basta Mi taccio Quanto Deve costare Al massimo Un consulente indipendente Guarda Di solito I consulenti indipendenti Sono allineati Sull'un percento Più IVA Puoi contrattare Fare meno Puoi fare il trucco Di fargli Allocare il portafoglio E poi basta Cioè te lo fai allocare Te lo fai gestire Per un mese Poi basta Cioè glielo dici Magari prima Anche per un po' Per chiarezza A lui va anche bene Insomma Tutto sommato Quindi Poi anche Chiedo di chiare Espressamente Quanto mi costa Cioè è il suo lavoro Cioè è come chiedere All'ingegnere Quanto ti costa Il progetto della casa Manico d'ombrello Sì ci sta spesso 20k in BTP A lunga scadenza Per speculare Sui tassi Ah beh Speculazione tua Io non voglio sapere La Parmalad La Parmalad Io ce l'avevo Signori cari Ce l'avevo E l'ho venduta Tipo il giorno prima In cui è stata Era smesso di essere quotata Quando era In caduta libera E purtroppo Ho buttato via I documenti E non ho fatto La causa collettiva Negli Stati Uniti Altrimenti Avrei recuperato Un 100 euro La crisi del 2008 Come ha regito Io me lo ricordo Ve l'ho detto varie volte Il problema Della crisi del 2008 Era che chiudessero I conti correnti Non erano le azioni Quindi io ho regito Andando in banca E poi levando contanti Massicciamente Cioè ho fatto Quello che non va fatto Prima che lo facessero Gli altri Quindi io che ero Più informato Prima che lo facessero Gli altri Sono andato in banca Ho poi levato Massicciamente contanti Avevo la casa Piena di Cioè come Fantozzi Quando apri L'ex portelli Ha il pane Che diceva Io avevo contanti Le parti No no Tra l'altro la banca Non ha fatto una piega Non ho poi levato Esageratamente Soldi Però insomma Ho poi levato Abbastanza per vivere Due mesi Diciamo Quello era il problema Del 2008 Ehm Bion Perso tutto Monte dei paschi Di siena Perso tutto Monte dei paschi Per due volte Ha zerato il capitale E comunque Adesso faccio un video Me l'avete chiesto voi Farò un video Sulla mia storia finanziaria Ho recuperato I dati degli investimenti Vi farò vedere Gli investimenti Uno a uno Vi faccio vedere Cosa vuol dire Essere in bolla Perché io sono entrato Col mercato in bolla E mi ricordo Se un titolo Non raddoppiava Entro l'anno Mi incazzavo Cioè Ma sto titolo È di merda Non ha neanche raddoppiato Quest'anno Quello era il mercato in bolla Vedete Comprova i titoli Gli vendeva il doppio L'anno dopo Quello era Bellissimo mercato in bolla L'oro nel portafoglio Ma io Così lo spruzzo Sì Io Le commodities Sono random Secondo me Però Tendenzialmente Crescono anche loro Quindi adesso Ho iniziato a metterle Anch'io Vorrei investire Una parte del portafoglio In questo etf Che replica 20 miners Di bitcoin Ok Ha una volta altissima Bravo Ha fatto più 100 Inizio anno Così un parere Su questo bellissimo Coso Che non so cosa sia Vediamo intanto Se esiste Crypto and blockchain Innovator Sixthrux Un indice Vediamo cosa ha dentro Ecco Ah beh Voi non state vedendo Quindi vi siete persi Ecco cosa ha dentro Attenzione Performance Holdings Questo basterebbe Cos'è sta roba Questa è Obbligatorio Per lì Fact sheet Bene Bello Ok Cioè Ma prende in giro Il kit Andiamo a vedere Almeno il kit Qui Cos'è Sì vabbè D5 Solo 6 Eh Ma possiamo sapere In cosa investe Andiamo Allargo Alla Dov'è che è Allargo L'ideatore Adotterà Una strategia Di repliche Investendo direttamente Nei titoli azionari Quindi Un po' A cavola Me A scanso Di equivoci Qualora l'indice Detenga Cercherà di rimuovere Laddove non risultasse È patente attiva Sta gestione Ok Ma mi puoi dire In cosa investe Attualmente Sì Ha come 5 anni Mia nonna 10 almeno Il problema È che Il fact sheet È Incompleto Cioè Questo secondo me È molto grave Sta roba Fact sheet Incompleto Male Male Andiamo direttamente Sull'emittente Vanek Ah no Questo è Borsa italiana Va il fact sheet Gli avvisi del giorno Non mi interessano Eccolo qui Il prospetto Sarà il solito Vediamo questo Che è piccolo Ah no Il documento Di quotazione Il prospetto Ah Sì Quante pagine ha Tra messo Bisogna prendere in giro La gente 370 pagine Di prospetto Ma dai Il kid L'abbiamo già visto Vediamo il supplemento A prospetto Ha solo 19 pagine Così Due parole Proprio Ok Io non investirei Perché non si capisce In cosa investa Questo è capacissimo Di investire in roba Che non ha niente a che fare Con il mining Cioè dovrebbero dirci Un po' Le cose un po' meglio E vediamo direttamente Sul sito di Vanek Agrio Ok Prospectus E qui sono sul sito di Vanek Quanto ci sta mettendo A scaricare Solite mille pagine Il fact sheet Bocciato comunque Eccolo Coinbase Che non mi risulta Essere un miner Bit there Dio Che potrebbe essere Un miner Marathon È un miner Hoot Mining C'è mining Sarà un miner Micro strategy Che Non so Ditemi voi A me risulta Semplicemente Possederli Riot Mi avete detto voi Con miner Sì ci sono Miner C'è dentro Coinbase Paura Ah questo è Subtotal La remaining holdings Sì 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 È il rischio Fatto persona E poi ci si lamenta Che io consiglio Robbia rischiose E poi ci si lamenta Ho dei soldi Per chiudere un mutuo Sono in trattativa Con la banca Avrei almeno due anni Per chiudere il tutto Perché non chiudo il mutuo Dipende da quant'è il tasso Del mutuo Perché il problema Erano i conti corrente Perché Perché Eh ve lo dico onestamente Perché Unicredit Nel 2008 Rischiava di fallire Unicredit Era All'epoca Forse era la banca Più grande d'Italia O la seconda banca Più grande d'Italia Rischiava di fallire Seriamente Se Draghi Non avesse detto At any cost Unicredit Rischiava il fallimento O quantomeno Il congelamento Più che fallimento Il congelamento Temporaneo Dei prelievi Compresi Gli pagamenti Col bancomat Ed erano cavoli lì E È successo Se non sbaglio In Islanda E a Cipro Cioè ci sono stati Gli stati in cui è successo Piccoli chiaramente Ma io per sicurezza Ho prelevato E per sicurezza Ho scritto Una banca cinese Se poteva aprire un conto Presto di loro Non mi hanno Neanche considerato Proprio zero Ho detto ok Se non mi considerano Quando voglio portargli Dei soldi Figurati se poi Quando voglio ritirarli Quindi meglio Non aprirlo E Parmalat Ha recuperato 17 euro Con assegno Royal Bank of Scotland Su 4000 Per causa americana Eh Lo Ah tu hai recuperato Il mio amico Ne hai recuperato Più di 100 Però Aveva investito Molto meno Di te Suttiro al bank Cos'è la Suttiro al bank E come mai Non la conosco Ah però Questa non è una banca È una banca Sì è una banca È una banca Ma è una banca Aspetta Controlliamo O è un broker Vediamo Cosa aspettassi da noi Mi sembra che faccia Molti servizi Ah servizi bancari Eh Non è una delle banche principali Qui le banche principali Sono tre Le casse rurali E Ovviamente Tutto il giro Le casse rurali Sparcast Sparcast Volksbank Posso Che vuole denunciare Il commercialista Se fa cappellate Una dichiarazione No Non solo Non puoi denunciare Il commercialista Se fa cappellate Una dichiarazione Ma può darsi Che le cappellate Te le paghi tu Se il commercialista È serio Te le paga lui Poi dipende Se la cappellata L'ha fatta Perché tu Non gli hai portato Tutti i documenti Una persona Che ha fondi obbligazionari Negativo Ha il costo Dell'1% Ha fondi obbligazionari Eh no Sì guarda Se io avessi Un fondo obbligazionario No Perché a quel punto Puoi vendere Il fondo obbligazionario Se proprio vuoi Compri un etf obbligazionario E speri Che Quindi Che è uguale Sì io vendo Fondo obbligazionario Vendere Assolutamente E Se proprio vuoi Rimanere Nella stessa roba Un etf obbligazionario E se lo dico io Ha senso Diversificare Su più etf Japan Se vuoi Sì saranno Correlatissimi Con gli indici Ha dentro 20 miners I botti Oggi sono Ricollocati Il 4% E mi fermo A Alexio Perché Vado A andare avanti Con Gesualda Villa Vorrei che tu Esaminassi Il mio portafoglio Contestato con mia moglie Gesualda Villa Ha una moglie Che ti allego Ha fatto L'ingegnere L'ingegnere libera Professionista Per 40 anni Ora in pensione Mi occupo di Quale è stata La mia passione Ok Grazie Excel Si scrive con L Solo Diversificazione Sguardo lungo periodo Impossibilità Aderita all'affrancamento Così Così L'autorità E me lo sono dovuto subire E quindi Se io avessi voluto L'avrei dovuto vendere Quindi Ci sono certi momenti In cui ti possono Obbligare a venderli Stiamo sempre dando Per scontato Che gli etf Li tieni 20 anni Ma A me è sempre Un po' difficile Tenerli 20 anni Magari Ti trasferisci Di tutto Può succedere Ok Però Il ragionamento È giusto Se tu non vuoi venderli Non ti conviene Sai contare Gli etf Contenti di sezionarsi Obbligazionario Perché non ti consente Di vendere separatamente Due parti Esatto No Non solo Ma anche perché Spesso la parte Obbligazionaria Non ti serve Vabbè E tu invece Decocio Niente Decocio È la tua strategia Alcuni studi Di università americane Dimostrano che il rendimento È quasi sicuramente Portato da azionario Ma un po' di obbligazionario Ne migliora l'efficienza E ne abbassa Io su questa frase Vorrei farci Il prossimo video Perché Io sono convinto Che Questo sia falso Perché io Ho un azionario Ci caccio dentro L'obbligazione Se con efficienza Cambiamo la parola In rendimento Sono convinto Che sia falso Magari mi sbaglio Però la narrativa Del Se hai l'azionario Ci butti un po' Di obbligazionario Aumenti il rendimento Perché Nei periodi In cui dimagra In cui l'azionario Va male L'obbligazionario Ti tira un po' su Secondo me È falso Perché Negli altri periodi Ti affossa talmente Tanto Che È falso Se invece Con efficienza Intendi l'indice Di sharp Hai ragione Ma non dimentichiamo Che gli studi accademici Hanno la bruttissima Abitudine Di essere fatti Per gli intermediari Finanziari E quindi Di guardare Sempre La volatilità Giornaliera Ora Cosa me ne frega A me Della volatilità Giornaliera Neanche riguardo I prezzi Ma non riguardo Neanche ogni mese Io Proprio Proprio Mi interessa Quell'annuale Ma neanche quella Mi interessa La volatilità Dopo dieci anni E infatti Nel mio analisi Volevo vedere Se questo è vero Nella volatilità A dieci anni Quindi se Inserendo delle obbligazioni Mi abbassa Veramente La volatilità A dieci anni Oppure no Finalmente Ho trovato Un indice Obbligazionario E posso cercare Di farla Anche se Ho ancora Pochi indici Obbligazionari Quindi io Secondo me Allora Il rendimento Non lo migliora E abbassa Significativamente La volatilità Sicuramente Sarà vero Su quella giornaliera Ma Quella giornaliera Non è la volatilità Che interessa Un investitore retail L'investitore retail È un investitore retail Razionale L'investitore retail Razionale Gli deve interessare La volatilità Dopo dieci anni Vent'anni Se il tuo obiettivo Hai dieci anni Dopo dieci anni Mentre L'investitore Istituzionale Deve pubblicare I bilanci Ogni anno Spesso Trimestrali Quindi gli interessa La volatilità Molto Sul più breve periodo Ah ok Grazie Prego Vediamo se riesco Anche a sbugiardare Sicuramente Per il rendimento Dovrei riuscirci Su questo Sulla volatilità A dieci anni Secondo me C'ho speranza Di sbugiardarlo Ok Vediamo cosa propone lui Ci propone Anzi si propone Vediamo se ho descritto qualcosa Vediamo quanto ne ha C'è dato un Controvalore mercato Ok il grosso sta qui Qui se muore il vecchio Sono cavoli Come si chiama Gesualda Se muore il vecchio E non intendo Te Intendo lui Sono cavoli Cioè tu potevi comprarti Berkshire classe A Addirittura Cioè A 535 Mila euro Su Berkshire È vero che Un guadagno di 380 mila euro Chissà quando l'ho comprata Forse neanche Troppo tempo fa E quindi Complimentoni Per E ci credo che Non affranchi Tu non tocchi niente Secondo me però Questa poteva starci Un affrancamento Comunque Ha un'azione Con questa Enorme rendita E va bene Ok È vero che Berkshire Hathaway È praticamente un etf Però è sempre un'azienda Cioè veramente Muore il vecchio Ti prendi un meno 10 Così Alle Muoriono i vecchi Perché tu tra l'uno e l'altro Non si sa chi sia più vecchio E E Vediamo cosa dice Giacomo Scusate Mi sono distratto I fondi obbligazionari Ha un importante vantaggio Rispetto agli etf I fondi È possibile Cambiare classe Tra il giatto O no Senza vendere e comprare Allora Supponiamo Che si possa fare Però Se l'etf E' giatto Mi costa il 2% Il fondeggiato Mi costa anche lui Il 2% Quindi non ho nessun motivo Per passare sul fondeggiato Seconda cosa Se il fondeggiato Mi costa l'1% All'anno Io praticamente È come se avessi Diciamo 5 cambi Gratis All'anno Cioè quindi No perché Anche l'etf Mi costa il mezzo Per cento Diciamo che ho 1 o 2 cambi Gratis all'anno Comunque Quindi Comunque Sì interessante Questa cosa Che si può scambiare Eh Antonio Non ce la faccio Scrollare indietro Ok Provedi Lui ha Una cifra enorme Su questo Poi vediamo Il resto 198.000 Su un MSC World Ok Adela Mundi Yes Ok Sbilanciato Quindi America Questa è americhissima Questa è America Poi ha Un 244.000 Su XTrackers Questo qua È un etf Europeo Ok Bene Di nuovo Un altro World 154.000 Ma questo Ha un patrimonio Di 1.6.000 Quanti anni ha? 40 anni Quindi aveva 65-70 anni Adozione Ok Questo qui Che deve essere Investito in Healthcare Cioè lui Quando entra Non entra Con Con 5.000 Lui quando entra Entra con Con almeno 100.000 Questa è quella Su cui ha Meno Sì scusa Mi dici che ti piace Il Vanguard Life Strategy 80 ma c'hai La miseria 55.000 euro Praticamente Lo stipendio Del cane Ok Sì sì no Comunque vedo Che sei ben Diversificato Mi sembra Che manchino Gli emergenti Mi sembra Mi sembra Mi sembra Mi sembra C'è queste sigle Misteriose Mi sembra Che manchino Gli emergenti Ben diversificato E mi fa Veramente Tanta paura Questa Metti che adesso Salta fuori Che 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 il signore Anziano Ci ha sempre Ci ha sempre Trullupinati Ha falsato i dati Di bilancio Clamoroso Clamoroso Notizia clamorosa Ha falsato i dati Di bilancio Questo 5535 Ti diventa 53 Nel giro Di qualche giorno Quindi C'è un rischio Anche intrinseco Uno diceva Sì ma è Sì sì Ok ma è un'azienda Metti Salsanta fuori Robbe Bislac Questa Questa cosa qui Rischia di Avere un tracollo Drammatico Quindi io Darei una limatona A questo Tanto Non hai bisogno Di Compensare Minusvalenze Perché tu Non fai mai Minusvalenze E dorina avanti Chiederemo a lui Dove investire Ma comunque Secondo me Investe da tanto Perché è un guadagno Su tutto Mi sa che Questo portafoglio È fire No e lui È in pensione Direttamente È in pensione Direttamente E Ah Giacomo Mi propone Quando Dallaro Va 1.3 Vai cambio aperto Quando va 1 Torneggiare Eh caro Giacomo Ma tu Sai come vanno Dollar Euro Io mi ricordo Di aver visto Il dollar Euro A 0.79 A svantaggio Dell'euro Io mi ricordo Adesso stato Negli Stati Uniti A Pittsburgh E tutti i prezzi Erano alle stelle C'era l'euro Che era molto Sotto la parità Sarà stato A 0.8 E mi giravano Gli marroni È stata l'ultima volta No non è stata L'ultima volta Che è stato Negli Stati Uniti Cioè io mi ricordo Quindi basta Che io vada Negli Stati Uniti E stare tranquilli Che l'euro Va molto sotto 1 Quindi non è che Tu puoi fare così Allea Tra le valute Perché non è detto Non è detto Che funzioni Cioè È la solita storia Sette volte Ti va bene Tre volte La valuta Va nell'altra direzione Perché euro Dollar Storicamente Sono stati Tra 0.78 E 0 E 1.3 Quindi Sì difficile Che vada Oltre l'1.3 Sotto 0.78 Ma cioè Non è facile Azzeccare In che direzione vada Il signore Non ha paura Del lamp sam Sì Esatto Gesù Alda Non ha paura Del lamp sam Conviene Mette 80k Immagino Un conto Deposito 2.5 Netto In attesa Di mettere Soldi In banca Per chiudere Un mutuo Che attende Due anni Per vie legali Tra me E banca Mi hanno fatto usura Due anni Ah Sì Secondo me Ci sta Ovviamente Non in quella banca I fondi obbligazionari Un importante Il tasso di return Abbastanza sicuro Per calcolare il fire E Cioè Ho fatto Due video Che ti devi guardare Soprattutto le pubblicità Non è che c'è una regola Alla fine Gira tutto attorno al 4% Però dipende Dall'inflazione Perché Cioè Tu puoi anche continuare A prelevare il 4% Ma se l'inflazione È costante O inizia a salire Ti dà delle legnate Non da poco Quindi ho fatto due video Il secondo addirittura È completissimo Gesualdo è ottimista Beh due pera Sì due pera Quello che vuole fare Gesualdo Ah Intendi dire che Gesualdo Schiatta prima di 20 anni No Auguriamo Gesualdo Tutta la vita lunga Povera Gesualdo Ok no Comunque Gesualdo Ne sa Ne sa Ne sa È all'azzardo Del suo mestiere Ma ne spero Che non fosse Ingegnere civile E costruisse i ponti Così Mettendo un unico pilone Che regge tutto Ok Un saluto a Gesualdo E passiamo a Caterina Pellegrini Ragazza Di 26 anni Che abita con i genitori Lavora a novembre 2020 RAL 30K Commedio Alte probabilità di crescita E sviluppatrice IT Full remote Tiene tracce di tutte le uscite Liquidità 15K Ok Portafoglio composto da due ETF Ah ok Ha un portafoglino Finalmente arriva il portafoglino E Co-world Pizzero-world Si diversifica sull'emittente Immagino Va Sì anche sull'indice Però più o meno siamo lì Plain 30 più anni Molta paura E Io non consiglio mai Le criptovalute E non posso consigliarle Punto No 30 anni E 6.000 euro anni Nel mio portafoglio Ok Ecco Questo potrebbe essere un problema Se vai a vivere da solo Sola E non è che hai bisogno di soldi Tipo La caparra Dell'affitto Perché io Perché io al prossimo appartamento Che affitto Giuro Giuro Chiedo 6 mesi di caparra Non 3 E Mi farei un cavolo Cavoli tuoi se non riesci a pagarmeli E No Non affitto più appartamenti Dopo l'esperienza con la prostituzione E E I carabinieri Ok Apri fondopensione Buona idea Più possibile Direi il massimo deducibile Sì Buona idea Beh buona idea Sì e no Hai Sai perché no Perché tu hai Po RAL 30k In aliquota Tutto sommato Non alta Cioè non hai il 45% In più hai tanti anni davanti Quindi non so se il fondopensione ti conviene Usa il mio calcolatore Vedi Usa il mio calcolatore Vedi Se il fondopensione ti conviene Perché hai Un'aliquota bassina Media Media Sulla tassazione Quindi dal punto di vista fiscale Non è convenientissimo Hai tantissimi anni davanti Hai una rendita di ste robe Che ti rendono In teoria Un 5% netto Anche 6 Perché 2 Ah addirittura per minimizzare le commissioni Va bene ok Sai che sei sovraesposto sugli Stati Uniti Però la quantitativa è piccola E lo saprai Sicuramente se mi segui Vediamo i commenti Forse mi hanno servito Nel tuo appartamento Posso dire anche dov'era Trento in prima Androna di Borgo Nuovo Una piccola stradina Del centro storico Quindi se sei andato là Però c'ero io sotto Che controllavo Che entrava e usciva Quindi ti ho Ti ho esaminato E schedato Così impari E No se erano plurale Le Enfield Perché fosse stata una sola I carabinieri non sarebbero arrivati Secondo me Ma i carabinieri proprio Volevano beccare Chi organizzava Perché loro non possono dire niente Alla signora Alla lavoratrice Però possono Inchiappetare Sonoramente Chi organizza Infatti volevano beccare quelli E Tutte signore Dell'alta borghesia Una dotta citazione Da Fantozzi No Era in via prima Androna Quindi una via bella Di Trento Tra l'altro Adesso è una gran via È sopra Ok adesso ci hanno messo sotto Il cannabis shop Però all'epoca sotto C'era la bottega del sarto Il negozio Di fili E aghi Di tutte le signore Bene di Trento Io sono civile Paolo Che senso Sarà stato il primo anno Di Euro 2003 Forse Un'incuniata Non fa primavera Negli ultimi vent'anni La forbice è minore Non so di cosa parlate Ah Quanto Eh giustamente Danò Dice che pagherà Un botto di tasse Beh Non più del 26% Su tutto Il panino Arriva da Alfonsino No Non arriva Ha preso la Berkshire Nel 2012 Eh sì Complimenti Portafoglio senza dividendi Va bene Ma Andrea Stefanelli Sei il mio parente tu? Ho un parente Che si chiama così E E se sei il mio parente Quando è che lo vendiamo Sto cappero di terreno? Il portafoglio di Gesù Alda È uno spettacolo A quel prezzo di carico Eh sì Quello secondo me Vi insegna Cosa vuol dire Acquistare e stare fermi Lui è stato fermo Non ha fatto niente Ok Ti ho appena scoperto Fantastico questo format Le patetiche Sono in due Una lavora All'altra L'appartamento in affitto A prendere il percentuale No no Da me erano in tre Che gestivano Ma gestivano un giro Di varie Di varie Che si cambiavano Periodicamente Io e i carabinieri Sapevamo tutto A un certo punto Bene Tra l'altro sapete Come fanno i carabinieri A beccarli Banalmente rispondono Gli annunci Gli mandano lì Uno in borghese Giovane E Quando entra Si qualifica Come carabiniere E Porta tutti in questura Per chiedere Dati e generalità Eh Ok E lo so Perché ho visto poi In questura Aurora Colombo Guarda Tiago Love Non so Perché voglia diversificare Quei due Vabbè E li vuole diversificare Probabilmente c'è anche Ha scoperto A un certo punto O a un certo punto Gli è arrivata l'offerta Dell'altro etf A commissioni zero Quindi ha iniziato A comprare l'altro Eh Oggi Eh no Li faccio Faccio tutti Quelli che sono arrivati Prima della live Dell'ultima volta Ne mancano ancora pochi Paola Testa 200.000 euro Tutti in BTP Casa di proprietà Tre figli piccoli Rip Stipendio 90k all'anno Rip Anche però Lo stipendio Non ho bisogno Di mobilizzare Soldi a breve termine Però sto male Se vedo un meno 30 Cosa consigli così De brutto Allora Vediamo No Allora Cosa consigliamo A Paola Testa A Paola Testa Consigliamo Resta Con quei BTP Non serve che sia Una brevissima scadenza Puoi prenderli anche A scadenze più lunghe Ma resta Perché Se stai male Se vedi un meno 30 Azioni Non le puoi prendere Perché Gesualdo No Gesualda Prima Quando ha visto Berkshire Hathaway Avrà perso Un meno 30 In un certo momento No Paola Testa Mi spiace BTP A scadenza più lunga Diversifica Su altre Obbligazioni Di altri Emittenti Possibilmente Governativi Così paghi Meno tasse Ho fatto un video Che mi segna Come diversificare Su quello A posto Finché C'hai questo Vincolo qui Finché C'è questo Vincolo qui E io azioni Mi rifiuto Di parlarne Neanche Un 60 40 Sono pagliativi In fondo Se proprio Proprio Vuoi Ti concedo Un etf Obbligazionario High yield È quello Che investe In obbligazioni Di società Fetecchia Una fallisce Gli altri Lo pagano E quindi Si compensano Proprio Proprio E a Paola Potrei anche Sentire di consigliare Un etf Obbligazionario Però Secondo me Meno 30 Lo rischia Quindi Vediamo voi Cosa gli consigliate Hai saltato Una persona È vero Adesso Facciamo Aurora Scusate Eh BTP Va a meno 20 Però Non dai No Il fatto è che Paola È vero che Il BTP Ti va a meno 20 Anche a meno 30 Però Tu dici Comunque Me lo rimborsa 100 E quindi Diciamo È un meno 20 Virtuale Invece L'azione Va a meno 20 E può stare A meno 20 Per sempre Vero Azioni Unicredit Che ho comprato E ho venduto A meno 60 Dopo anni 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 Vero Ok Aurora Colombo E qui c'ha troppe L'avevo saltata Perché aveva troppe R Aurora Colombo A 20 anni Studia economia Collabora Con società sportive Ottieni 2.5 3.5 Ok Mi sto vicino A mondo Di investimenti A qualche azione Acquistata A cavolo Un pacco in etf 500 euro Annui Ok Beh Pochi soldi Più di quello Non si può dare Vorrei investire Nel breve termine Entro 4-5 anni Per non tenere Fermi Allora Se tu vuoi investire Nel breve termine 4-5 anni Comunque al medio termine In finanza E No alle azioni No alle azioni E no l'etf azionario Cioè Paola Aurora Scudere Aurora Il problema è Cosa farai tu Tra Quando finisci di studiare Avrai bisogno di soldi Boh Sì Non si sa Quindi io Contro deposito So che Suggerimento triste Contro deposito O obbligazioni E toglierei Quelle azioni Vabbè A meno che non siano Proprio spiccioli Il pack è Quasi spiccioli Quindi vabbè Ok Però gli altri soldi Io li metterei In investimenti a breve Perché Sembra la situazione Tu non sappia Attività Cossacarcistiche Ah perché Ma perché Fare una formazione Di Attività Cioè bisogna Pagarla Questa formazione Questa è una cosa Bizzarra Io non immagino Cosa sia Potrebbe essere Arbitro Potrebbe essere Allenatore Allenatore difficile Potrebbe essere Massaggiatore Potrebbe essere Anche gestore Revisore contabile Di aziende calcistiche Ma c'è bisogno Di pagare Per fare Questi corsi Sì esatto Esattamente Vedo che mi hai colto Mettiamolo in verde Questo Mi hai colto A luglio A luglio Sono rialzati i tassi Non seguo Neanche questo Non puoi sapere Come vanno i tassi Ti prendi BTP E Non rompi Le scatole Non puoi sapere Come vanno I tassi Non puoi Saperlo Guarda I tassi vanno Come dicono Le previsioni Più o meno 0,25 Quindi se dicono Che aumenteranno Di 0,5 Possono aumentare Da 0,25 A 0,75 Però il tutto È già apprezzato Di solito Quindi è già Dentro il prezzo Quindi Non puoi farci niente Cioè Comprati queste obbligazioni E te le tieni a scadenza Quello ti danno E sei a posto Oppure Conti deposito Mi sembra che Aurora abbia Una situazione facile Per obiettivi Compresi da 5-10 anni Dove lo creeranno i fondi? Obbligazioni 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 No azioni Se sei veramente l'obiettivo Perché dopo vuol dire Che devi prelevare i soldi E rischi di prelevarli in perdita Non posso permettermi Di consigliare Criptovalute Anche se storicamente Bitcoin In 4 anni Ha sempre Performato Sopra la pari Quindi Non ha mai perso Però Non posso dire Questi consigli Tieni anche sotto il letto Dai Insomma Se vogliono investire Pochi soldi Se mi trasferisco all'estero E tengo un conto corrente A non residente in Italia Pago il 26% qui Corretto? No Cioè paghi le tasse all'estero Per avere un conto corrente all'estero E forse l'imposta di bollo Potresti pagarla comunque Il 2 per 1000 Non ne sono sicuro Ah è corrente Quindi forse l'imposta di bollo Di 34 euro Potresti pagarla comunque Non ne sono sicuro E Ah però tra l'altro Tu dici conto corrente Ma penso che intendessi Conto titoli Ancora più complicato Paghi le tasse Come se avessi un conto titoli All'estero E in meno di un anno Meno 20% Sì potrebbe pensare Orrò anche a qualche conto deposito Però Paolo un etf obbligazionario Anch'io alla fine ho consigliato Un etf obbligazionario Non capisco perché A Mr. Rip si fanno le donazioni Al professore no Ma chi è che fa donazioni a Mr. Rip? Davvero non mi risulta Fate le donazioni Maledetti Beatrice Conti Abbiamo finito No sono ancora lungo Ops 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 Colpa vostra Che scrivete il nome Sono Beatrice Ho 30 anni Nonni e genitori Ancora in vita Ah ecco L'ereditiera Quindi probabile Ereditare In ereditiera Facendo Dai Beatrice Ti racconto una cosa Se muoiono i nonni I soldi Li ereditano i genitori Non tu No Non tu Eh ok Però lui stima Di ereditare 50 100k E 3 appartamenti A meno che La tua famiglia Non faccia come la mia Che è una gestione comunitaria Ma se ci sono fratelli e sorelle È un casino La mia famiglia invece va giù così Ha figli unici Pam 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 Raddoppio del capitale Ogni generazione A causa di figli unici Eh ok Vabbè Comunque tu pensi che arrivino soldi O inoltre Casa di proprietà Autosufficiente a livello energetico Terreni legati a società agricola Di cui è socio Insieme al genitore e fratello Che gli rende 2005 al mese Sti cavoli Eppure ah C'erano gli anni buoni C'erano anche gli anni di magra Dice Gli anni grammi Spende 2005 Con le carte Binance E Crypto.com Poi Spende anche per la ragazza Però gli arriveranno soldi Appena la ragazza inizia a lavorare Poi spende per le vacanze Non ha noto di proprietà Utilizza giustamente I mezzi aziendali Qui c'è Qui l'agenzia dell'entrata Sta prendendo nota eh Sai che Utilizzo dei mezzi aziendali Per attività personali No Le utilizza solo Per attività lavorative Il patrimonio è suddiviso in Liquidità 20k Non è troppa Secondo me Metti che Che so Devi fare un lavoro Al terreno Ti crolla la casa Il tetto Della casa del nonno Non è troppo Secondo me 20k Sì Io Quella su Binance E Crypto.com Non la considererei Liquidità sicura Liquidità vincolata 6 mesi 2,2 pulito Ok Ah quindi Questa si aggiunge A quell'altra Quindi abbiamo Un 38,4 Fondi Mediolanum Eccoli qui Flessibile Flessibile futuro Italia La Pia Flessibile futuro Italia La Pia Va bene Ma questo Cancelliamolo Questo secondo me È il suo Account Ok Guardate Inutile che mi indichiate I guadagni Perché vanno soltanto A fortuna I guadagni Su un singolo fondo A fortuna O sfortuna 5k Comunque c'è Poi Un pack Cos'è sta roba Altri fondi Alle Festa grande Fondi Pack Su fondi Settoriali Vi ripeto Investire in fondi Vuol dire Dare i soldi A un tizio Che fa Quasi quello che vuole Entro i limiti Del fondo Che sono molto laschi Fa quasi quello che vuole Si fa pagare Per quello E ve lo carica a voi La gestione patrimoniale Comunque è quasi peggio Diretta Diretta invece 2k Ecco La mia idea Di investire in azioni A caso Funziona Se ne investite in tante Se ne comprate una a caso Non funziona Poi a 0.35 bitcoin Dove ce l'hai questa roba? Ah su diversi wall Diversi Non ne fa Uno Uno Bastava uno Vabbè Ah qui ho dovuto censurare Ho dovuto censurare una parte Perché Non voglio dire perché Ho dovuto censurare una parte Non ha intenzione comunque Di vendere le criptovalute A 3 BNB Su Binance Poi Vabbè Vabbè lui non si scoccia A fare i bonifici Da Binance Ma il problema Non è che tu ti scocci Il problema è che l'agenzia Si è l'entrata e si scoccia A vedere continui i bonifici Verso Binance E verso Crypto.com Soprattutto Binance Che se ben ricordo Non ha Liban a tuo nome Ha un 1000 euro di incro Immagino che sia per avere la carta di credito Ok Poi ha 20 robe strane In steak Launchpad Bla 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 Un 1000 euro su Kraken 300 euro C'è Come si chiama? Beatrice Ci abbiamo a buon tempo L'agricoltura lascia molto tempo libero Mi sembra che l'agricoltura lasci molto E beh sì In effetti d'inverno Non c'è niente da fare Molto tempo libero D'inverno Ok Beatrice Sai che qualunque di questi exchange qui Può saltare da un momento all'altro Senza previso Non è che ti avvisano prima Penso che l'unico avviso prima Che avete ricevuto Ero io Che ho fatto uno short C'è ancora sul canale In cui avvisavo qualche ora prima Che FTX stava per fallire Però non ci credevo neanch'io Quando ho fatto quello short Ok Visto che sono così appassionato alle cripto Me ne accorgo Mi chiedo Cosa mi trattiene Esatto L'idea di comprare 3-5 azioni a caso Un'obbligazione a 3 anni Ma la mia idea Se questi fossero soldi miei Che mi arrivano a caso Così perché qualcuno Me li dona Io Silorei Tutta Mediolanum Senza neanche andare a guardare cos'è Silorei Tutta Mediolanum Poi Se proprio vuoi Quelli Li investirei in azioni a caso In modo che questo A caso Possa essere Se proprio voglio Perché se fossero soldi miei In modo che questo a caso Possa essere Un A caso Ma Più di una Perché A caso Intendevo Sparpagliando uniformemente Non a caso Una Vediamo cosa commentate voi Mi trema la mano a comprare obbligazioni singole In altri paesi Perché Ho letto qualcosa di confuso sul trading in borsa elettrica Sì ma il trading di elettricità quello eh Lo fanno Conoscendo una mia studentessa Aveva trovato lavoro in una cosa così E lo fanno però Sono le aziende che lo fanno Non E la mia studentessa ogni mattina faceva report su report Mi ricordo Le avevo chiesto tutto su questo lavoro E niente Poi dopo si è licenziata Perché voleva fare la casellante E La saluto Scherzo con la casellante Ma non so se si può farlo anche un privato Entrando così Lei la faceva per conto di una società Quale cifra conviene avere bitcoin e tino su wallet E non su exchange? No non è Non è una cifra eh È semplicemente oltre a quanto sbatti Se tu i bitcoin li tieni Perché sono Lui ad esempio li tiene Perché immagino che voglia andare su DeFi Vuole avere la carta di credito Quindi lui gli servono le criptovalute vere E allora Li tiene tutte in criptovalute vere Se non ti servono le criptovalute vere Allora Solo ETC Perché è lo sbatti Non è la cifra Beatrice Se è single ci troviamo Si fa la Tranquillo Baldo Sono io Quello è un altro username Ah sei Bitsat Ah A Bitsat si risponde in diretta Con la famiglia Ah quindi la gestione familiare I mezzi sono del lavoro Si c'è Bitsat Lo fanno tutti Non preoccuparti Ovviamente Auguri con la dichiarazione Ma Bitsat la saprà fare Il commercialista Si strafina le mani Magari Bitsat è esente tasse In quanto coltivatore diretto Per quello Ho il pack sui fondi A caso Ma più a caso Si considerando le cripto come azioni Molta A Bitsat Considera le cripto come delle azioni Se lo studente diventasse un studente finanziario Cosa ne penserebbe? Ma la maggior parte dei miei studenti Del corso di laurea in accounting and finance Diventa roba del genere Alcuni diventano commercialisti La maggior parte No Molti diventano commercialisti E molti diventano invece Lavorano nelle banche Proprio la sparcassa è piena dei miei studenti Ogni volta che vado Ce n'è uno allo sportello Mi saluto tutti quanti Vado dentro E ho proposto per salutare tutti La lira turca? No E' come scommettere Un numero secco sulla lotteria In una parte il bitcoin La tengo addirittura su un wallet non taproot Ancora con l'indirizzo Anch'io Anch'io io ce li ho tutti Su ancora un indirizzo che inizia per uno E ogni volta che devo fare un trasferimento Giù commissioni E per quando fa qualche decennio Sarà il bitcoin standard Comunque sarà simile Ah lui era un bitcoiner Ok no Bitsat E tu c'hai tutto il tuo giro Se tu hai tempo per gestirti tutto sto giro Di cripto Con carte di credito Qua là su giù Benissimo Benissimo Però in realtà Dal tuo sto giro Non è che ci guadagni poi milioni E mi chiedo perché questo Perché hai l'amico Che fa il consulente In Mediolanum Confessa Vero? Vero hai l'amico Che fa il consulente In Mediolanum Perché il grosso sta su Mediolanum La liquidità non è tanta Beh odio Assieme a questa diventa troppa Però poi Non so Dipende da quanto giro Il tuo sotterreno Ad esempio Magari devi riparare i pannelli fotovoltaici Che ne so C'è un buco E devi fare il tetto Coltivazioni di cripto Ok Attendendo che risponda Vado avanti Perché vuoi comprare un'obbligazione? No Comunque vedendo i portafogli La gente Gli imprenditori sono più propensi a rischio I casellanti Arrivano a tant'anni Con un miliardo Probabilmente Sarà anche il mio lavoro secondario Lo faccio per persone Sì è vero Il panino Non so se arrivi Non penso che arrivi Aspettate Già che ci siamo Guardo se mi sono notizie dal panino Faccio notare che Ho Ho riciclato un vecchio cellulare E adesso Uso un vecchio cellulare Come telecamera Perché sono troppo Braccino corto Per comprarmi una telecamera decente Panino Arriva notizia dal panino? No Nessuna notizia dal panino Penso che mangiavo la fetta d'anguria Ce l'ho già in frigo però Ah ecco Per mio padre Bizzar Quindi quelle sono Tuo padre Che ha l'amico in Mediolanum E niente Te lo devi tenere E niente Quei soldi li Come io Uno dei conti che ho Deve essere in una banca In una certa banca Mi dà accesso a pochi mercati Ma lo tengo in quella banca lì E E' costruita intorno a te E pensate che quando Ho iniziato a investire Mediolanum Era una delle poche Che avesse le commissioni Trasparenti E abbastanza basse Quindi era veramente Una grande banca Adesso magari lo sa Anche adesso Sicuramente Non l'ho esaminato Si compra Facendo da solo Oppure L'etf Messicano L'ho già venduto Per pagare il tetto Ho il tetto messicano L'ho fatto a sombreri Anzi mi sono fatto anche mettere Una Un'apertura sul tetto Che Possiamo chiamarla finestra Ma non si può chiamare finestra Perché sennò Avrei dovuto avere i permessi Per una finestra Quindi potrei fare una live Dalla soffitta Perché adesso Ho la luce Esatto Si E' bit sat Mi sa che ti tocca Stare Con Certo potresti Tirare via Un po' di soldi Alla volta Cioè Ci servono soldi Papà è anziano C'è il tetto da rifare Un pannello fotovoltaico In più Quindi potresti Spostare un po' Non in cripto Magari ma Se prendi azioni Volkswagen Pago le imposte Sia tedesche che italiane Si Conta dove Ha sede legale L'azienda Quindi se prendi azioni Ferrari Che ha sede legale Non in Italia Doppia imposizione Conta dove Perché la prima Tassazione te la fa l'azienda Conta dove ha sede legale L'azienda Il costo di gestione Dei fondi Ci ha detto Beatrice ci ha detto I costi di gestione Dei fondi Ok Dopo questa notizia Passiamo a User LL Che Quattro Questo è il suo indirizzo Bitcoin Quattro XU UI D5L Ma aveva scritto Su Direttamente Su Direttamente in un commento A un video 30k Tutto ETF azionale Ad accumulazione Così distribuito 50 Vanguard 18 Lixo stocks Questo è europeo iShare emerging market Perché ci rimettete Lo standard Empur Che c'è già qui In maniera massiccia Vabbè Lui Tu praticamente Hai replicato L'altro indice Mettendoci un po' Di Russell Un po' Di Russell Quindi Russell È un indice di small cap Americano Quindi aziende Sempre americane Ma piccole Stavolta Quindi hai praticamente Replicato l'altro indice Ok Vabbè Ok Subisco In silenzio Subisco Io avrei tolto Questo Assolutamente Fossero stati soldi miei Questo ci può stare Però avrei tolto questo Così almeno Ribilanciava un po' Allo sbilanciamento Americano Che c'era qui A breve Disporò di ulteriori 50k E sto valutando Se Poi Porcazzoccola Perché mi Dov'è qui la lingua Ho deciso che in inglese Sto valutando Se mantenere L'attuale allocazione E implementare Con altri etf Di altri paesi singoli Come Messico Mi tenta Arabia Saudita E Sudafrica Più etf singoli Di Canada E Australia Ecco Io andrei più su questi Però ci stanno Tanto immagino che 50k L'altro quant'è? 30k È Sì ma poco Poco Io Non ne ho poco Ma tu Poco Ovviamente Sono soldi Che non mi servono Da qui 10 anni Ci mancherebbe Sì hai la mia Benedizione Così togli anche Un po' di America Magari eh Ma Perché ce l'avete Prendete un Eventualmente Un let in America Che dovrebbe Comprendere il Messico Il Brasile Magari l'Argentina Il Nicaragua La Colombia Ok Sudafrica Alto consumo investi Ne parlava molto male In un suo ultimo numero eh Io ce l'ho Alto consumo investi Ne parlava male Però se non posso dire Canada e Australia Sono due cose Abbastanza standard Insomma Sì sì Hai la mia benedizione Vediamo se ha la benedizione Anche della chat Il mio family banker Vede anche il conto Dei miei Ah quindi Mediolanum Ce l'hai anche tu Puoi dirgli Al family banker Tu togli il tuo Conto da Mediolanum E gli dici al family banker Guarda La mia fidanzata Che magari non esiste La mia fidanzata Lavora presso la banca Fineco E devo quindi Aprire il conto lì Lui è conscio di questo E quindi Se vuoi una scusa Perfetta questa Ti sganci Almeno Almeno tu ti sganci Manco sui tiro Nell'ultima Bullrano Ho pagato tante fee Tu praticamente quindi Compensi Il fatto di avere prodotti Poco rischio Di una parte Con il rischio estremo Delle crypto Il problema è che La cosa che non compensi Sono i costi di commissione Sia da una parte Che dall'altra Comunque nel 2020 Non avere un po' di Cina Ah è vero Dov'è la Cina I share emerging market Sì Forse potresti Spacchettare Invece di andare Su questi singoli Spacchettare Quell'emerging market In Cina India Se proprio vuoi Messico Arabia Suddita Sudafrica Canada Ha un andamento Molto simile a USA Davvero Controlliamo Non ho voglia Mi fate controllare Allora Proviamo ad andare qui Vediamo Canada Eccolo qui C'è compare Sì Dove si fa A mettere nel selection Si vede che non uso mai Compare Canada Poi E uno standard Non facciamo MSC USA Così prendiamo anche le small cap Dai Questo E ad accumulo Si Lo mettiamo Dov'è nel compare Andiamo a vedere Sì 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 Siamo un grafico Mollami il grafico Insomma Qui si sono distaccati Tanto Ah ma questa Cota Vediamo il massimo Che abbiamo Qual è Gli Stati Uniti Sono quello sopra Ok Il massimo Che abbiamo Dipende pesantemente Dalla foto Che gli Stati Uniti Siano saliti Però la forma È la stessa Vediamo a tre anni A tre anni Sono proprio Cule camicia E qui però Sono staccati Adesso 53 42 Nell'ultimo anno Si si vede Lo stacco Si forma Simile Bisogna Mi sarebbe piaciuto Vedere prima Nella crisi del 2008 Se anche il Canada Ne ha risentito Perché prende Un etf All world E poi comprare Etf In singoli paesi Penso che siano Acquisti successivi Magari il primo L'ha fatto Tutto il mondo E poi Eh Arabia Saudita Terra di 0,60 Anche poco Ho solo Meme Stock Se ne hai tante Funziona Ah La miglior piattaforma Può investire in Italia Directa De Giro Di Giro Non sai mai Se ti manda Dichiarazione Di redditi Giusta E devi Fartela tu Comunque Devi Comunque Sapere Dove andare A cliccare E Sì Le commissioni Buone Dipende Da quanti soldi Ci metti Da cosa Vuoi farci Però In questo Canale Si fa Solo Cassettisti Compri E stai Fermo Quindi Le commissioni Sono Sommato Abbastanza Irrilevanti Andiamo avanti Ok Patrizia Cesaroni A 60 anni Stava al lavoro Brava Patrizia Si fa guardare In live Durante il lavoro Ho venduto Un appartamento Vorrei investire 100k Ma essendo La prima Non so proprio Come fare In cosa Conviene Patrizia Non Investire Non Andare in banca A dire Che vuoi investire Non Investire Patrizia Patrizia Prendi Un contodeposito Ho già Fatto vedere Una volta In un video Che parlava Botto Contodeposito Come si sceglie Il contodeposito Forse ne farò Un altro Esplicito Su come si sceglie Il contodeposito Prenditi Un contodeposito Mettili In un contodeposito 90k Magari Ho mutato Il microfono Mettili In un contodeposito E E Poi Devi studiare Perché Non puoi Perché È veramente Oppure Ti affidi A un Un Consulente Finanziario Autonomo Che ti chiederà 1000 1300 Euro E Niente E ti farà Fare un portafoglio Simile a quello Di Non al suo Simile a quello Di Non al suo Purtroppo Ecco Questo Magari E Però Devi assolutamente Istruirti da sola Perché Questo è un mondo Duro E Luca Reddito Reddito Perché Mi ha conosciuto Mi ha contato Su Reddit E Bitstar Riferito alle tasse Successione Noi saltiamo Una generazione Per evitare Di pagare Tassi in più Ti hanno avvisato Bitsat Che è esente Fino a un milione Di euro Ti hanno Sei stato informato Di ciò Anche a casa mia Era in vigore Sta roba Grazie alla quale Arriva tutto a me Però È inutile È esente Fino a un milione Di euro E Lo sarà Insomma A meno che voi Non abbiate veramente Un patrimonio Oltre milioni Di euro Allora sì L'investimento Immobiliare A Trento Ti ha reso Più o meno Degli investimenti Immobiliari E io ho Io ho Ereditato Investimenti immobiliari Che avevano fatto I miei genitori A Bolzano E in piccola parte A Trento Però li avevano fatti Dagli anni 70 Agli anni 90 Quindi Alto periodo Alto periodo Lì andavano i prezzi Anche l'inflazione Andava in salita massiccia Anche i prezzi delle case Andavano Soprattutto a Bolzano E Trento Andavano in salita Soprattutto a Bolzano Andavano in salita massiccia C'è qualcuno Che osa consigliare Le azioni della Juventus Qui Quale rivista Finanziare consigli C'è un mio video Io ho Alto consumo investi Che è Quasi Completamente indipendente Cioè nessuno Non ha pubblicità Quindi può parlare Mare di più o meno Quasi chi vuole Però voi fatevi la vostra Ve la faccio vedere In un video Però in un video La sfoglio Su questo canale Buy and hold Sì esatto Lucio Ah ci abbiamo Lucio reddito Per i terreni E case no Come no Sì C'è su tutto il patrimonio Un milione Di esenzioni di un milione Se poi le tue case Superano un milione Ok Ma altrimenti Sì c'è tutta esenzione Di un milione Su tutto il patrimonio Se vuoi posso essere Tuo figlio unico Sono un ingegnere civile Utile Però a me non serve L'ingegnere civile Serve il lattoniere Cioè non serve quello Che progetta Che ne ho a chili Di amici ingegneri Serve quello che Va a piantare Chi odi sul tetto E l'attività di prostituzione Quanto ti ha reso Ma io penso Che chiedessero lo standard Quelle allegre signorine Sapete come lo so Perché quando mi hanno dovuto Dare la caparra I signori I gestori Io gli ho chiesto tre mesi 550 d'affitto Quindi mi hanno dato 1650 euro di caparra Tutte in banconote da 50 Una mazzettona E poi anche 550 Del prima ammissilità Anche quelle in banconote da 50 Quindi penso Che chiedessero La tariffa standard Il conto deposito È stato al 26% Perché non è Un'obbligazione statale Ah perché consiglio Dipende molto Da quanto rendono i bot A quanto rende il conto deposito I bot Poi possono anche fluttuare Poco Ma possono fluttuare Soprattutto in caso Di attacco All'Italia Ah sì Bitsat Nel complesso Lo superi Eh sì In effetti È un problema Allora Ah Bitsat Quindi tuo padre Ereditato dal tuo bisnonno E salteranno te quindi Passeranno ai tuoi figli Quindi ti tocca saltare Ce l'ho posto Un link all'albero Di consulenti finanziari Indipendenti No Sì dai ve lo posso Aspettate Guardiamo Con Assulenti Finanziari Autonomio E questa Contogliamo Contogliamo È l'albo No io volevo l'albo Però non volevo un'associazione Ecco L'albo L'albo Eccolo qui Consob Non è questo Che scatole Consulenti finanziari Regolamento Consob Protocollo D'intesa Ok Il sito è questo Questo è il sito Ufficiale Organismo di vigilanza E tenuto Dell'albo unico Di consulenti finanziari Sono pochissimi Adesso lo consultiamo In diretta Elenco iscritti Proprio nome e cognomi Nome e cognomi Quindi salterà fuori Ok Consulenti finanziari Autonomi Eccoli qui Vi posto il link Ok vediamo chi sono È uno zippone Cioè quindi Uno zippone Questo vuol dire che non viene praticamente mai modificato Vediamo chi c'è dentro Ecco qui Regione per regione Andiamo a vedere quelli della campagna Così una a casa In onore di Ma Cioè Che tristezza è questa Ma sono in formato CSV Pezzenteria Allora Allora Dov'è Apricone Qui View Vabbè vediamocelo così No comment Cosimo Andrea Andretta Nato del 56 A Parigi Salutiamo Cosimo Salutiamo Cosimo E a Napoli Come vedete sono pochissimi Questi sono tutti quelli della campagna Il più giovane 97 Sebastiano Parillo A Caserta Nato a Caserta E qui è a quale azienda si fanno parte Ma non collocano ovviamente Ah io investo Molti fanno parte di io investo Ho notato Io investo Io investo Dov'è? Della Calabria sono quattro In caso di guerra In caso di guerra Ha paura per gli investimenti In tutta la zona A San Marino non ce ne sono Faccio notare E neanche al Vaticano E neanche in Valle d'Avosta In Trentino Alto Adige quanti sono? Pochissimi Vediamo in Trentino Alto Adige E là Non è se ci sono tre Di numero Massimiliano Benedetti Dov'è? A Roncegno Provincia di Trento Max Oberperfler Che conosco A Merano Saluto Ciao Max A Falcines A Bolzano E Michael Terzer A Enya A Bolzano Nessuna di io investo Benissimo Potete guardare Sono ovviamente pochi E si contano con l'umicidio Chiaramente perché È molto meglio per loro Avere una banca Perché la banca Ti porta già i clienti E non devi cercateli Da te Tre ex allievi Miei Io investo Con la macchina No hanno Il video di Pinna Mi ha distrutto La possibilità di fare Consulente Esatto In realtà Pinna diceva Che se tu ti iscrivi Alla loro associazione Che forse è quella Che ho visto prima Ma non sono sicuro Allora se ti iscrivi A quell'associazione Allora hai Diciamo La parte burocratica Più facile Cioè ti aiutano a farla Però costa un botto Questo è quello che ho capito Dal video di Pinna Che saluto C'è un mercato da credire In Valle d'Aosta Esatto Ah proprio Bitsat Fate il salto generazionale Come dovrà fare La monarchia inglese Va bene Passiamo avanti Lucio Reddito 25-30 anni Viva Ecco non chiedetemi Di fare modifiche L'ho letto per caso Che mi avevi chiesto Di mettere la fascia Viva Milano Convivo con la mia ragazza Con la quale condividiamo Gli orizzonti temporali Ok Avendo visto Allora mi dice Che non può darmi Una stima Del rischio Che intende sopportare Però Mi dice Rischio medio Se 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 Segniamo Ma 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 non si preoccupa Questo È Rischio totale Aspetta Vediamo Se mi risponde Non mi ricordo Più Chi sei Qui nella chat Eri presente Ah Mavert 17 Mavert 17 Specifico o meglio Sto rischio Per questo a casa mia Non è rischio medio È rischio alto Beh però Vediamo intanto Ho visto sul video Su investire fino a 20.000 euro Ok Investire piccole cifre Stipendio netto 1.500 Faccio il Mi hai chiesto di togli La professione E penso che il mio stipendio Si è destinato a crescere in pochi anni Ok 13esima 14esima Va bene Bonus annuale Ok Risparmio Risparmio ogni mese 150 250 Fondo di emergenza Per tre mesi Già fatta immagino Due rischi temporali Dieci anni Oh Quanto 110 Ma abiti a Bolzano Questa è l'anticipo Per il garage Scherzo Abiti a Zurigo Eh Non penso di agitarmi Eh Ok 110.000 euro Tra dieci anni Per l'anticipo della casa Vent'anni Fondo consistente Eh sì Sei molto generico Come valuto gli investimenti adatti Ah beh Guarda Vuoi avere tanti soldi Ne hai pochi E Non temi il rischio Non dico Criptovalute Però azioni Sì Io In questa situazione Investirei in Criptovalute Ma sono io Io investirei in Azioni e Criptovalute In questa situazione Ma sono io Forse un'altra persona Investirebbe In Solo in azioni Un ETF azionario Ben conscio Che ti può cacciare Un meno 40% E tra dieci anni Probabilmente Hai raddoppiato Hai raddoppiato Quello che ci hai messo dentro Adesso Se ce lo metti invece Dilazionato Non è raddoppiato Però Considerando che tu ci metterai Dentro anche Dilazionato Non è poi alla fine Così rischioso Potresti andare Di ETF azionario Dritto dritto Il solito VVC Come fa Poi vedere Anticipo per dieci anni Sto considerare Inflazione Beh 110.000 euro Di adesso E quindi In effetti Questo è interessante Perché vuoi anche Quindi tu vuoi Arrivare a 110.000 euro Di adesso Quindi Inflazionati Ok Allora Cripto Però no Dai Seriamente Azioni Gli fai un pack Mensile È proprio una roba standard Vediamo un po' Quali domande Dovrò farmi Per pormi degli obiettivi finanziari In realtà Tu ce l'hai già Poniti anche l'obiettivo Se devi comprare macchina Se vuoi fare Un fondo pensione Ma forse no Perché stai puntando Alla casa E hai una bassissima Tassazione Con 25.000 euro Bassissima Rispetto alla mia Bassa Diciamo Quindi Io gli obiettivi finanziari Mi chiedo Cosa devo comprare Tu mi sembra Che non devi comprare Niente Vivi con i tuoi Sì sì E vivi Abbastanza Lontanuccio Sì Le domande Da porsi Sono tempo E soldi Quanto tempo Quanti soldi Mi saranno Entro quanto tempo È un po' ottimista Però questo Sei un po' ottimista Perché è un problema Investire piccole cifre Per le commissioni Tra i 1700 Offerte Che ci sono Scegli quella Che ti fa Pack A commissioni zero E quindi Ci puoi buttare Dentro 15 250 250 250 Euro Al mese A commissioni zero Lusso È grasso Che cola Se invece Scegli ad esempio 5 euro Di commissioni secche Vuol dire Che paghi Ogni volta 2.5% Di commissioni Tantissimo Da quanto Partirebbe lei Per investire E io Diciamo che Meno di Io Come ho detto Sotto i 5000 Forse non vale Neanche la pena Però tu C'hai un pack Adesso ci sono Queste offerte A costo zero Quindi Ti conviene Anche investire Cifre piccole È Il mio Idea di tenere I soldi fermi Era più che altro Per lo sbatti A dover aprire Contotitoli Ma con directa È tutto molto snello E Lo sbatti E pagare le commissioni Però tu sei a posto Secondo me Adesso che sono usciti Questi Pack A commissioni zero È un lusso Sì Hai 150 metri Hai ragione Ma probabilmente Directa Ho sbaglio O offre i pack A costo zero Su certi 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 ETF Lui ha già Un fondo D'emergenza E non dimenticatelo Tre mesi Che immagino Siano quindi Un 4.500 euro No un po' meno Perché Sarà un 4.000 euro È effettivamente Forse Un po' incrementare Questo fondo D'emergenza Non sarebbe male Quindi Io accumulerei Altri 5.000 euro Prima di smuovermi Sì E investire Per aumentare La RAL Sì Lui a fare un lavoro Per il quale C'è il tipico job O hopping Mi sembra E quindi Sì Potresti Beh Sicuramente Lo farà Stipendio Destinato a crescere Però Penso che Non gli serva A fare altri studi Giovanni Rizza Un consulente finanziario Non autonomo Lavoro in partita Arriva con partner Azimut Purtroppo Non c'è molta chiarezza Ad esempio Azimut Non mi Passa alcun cliente Davvero C'è proprio niente Vediamo Ma come viene Per altre realtà Mi permetti di offrire Una consulenza A parcella Ok Ok Però Giovanni Se ce lo puoi dire Ti retrocede Dei soldi Se io vengo da te E compro Dei fondi Azimut Tu ci guadagni Qualcosa O no Non è perché Loro solo Giorgiano su questi clienti Bisogna strutturarsi Con fatica Sì Infatti La rete È dura Cioè E poi Detto chiaramente La gente Si fida meno Cioè Se io vedo Uno scappato di casa Che non lavora Per nessuno O vedo uno Che lavora per la banca O uno che lavora Per Azimut E mi fido di più Di questi ultimi due Che non dello scappato di casa Anche se in realtà Piano Scrivi piano Oh tu hai Questo è interessante Finalmente si offre La consulenza fee only Ma vuol dire Che tu non Insisto con la domanda Non ricevi niente Io vengo a consulenza da te E per qualche motivo Voglio comprare Il fondo Azimut Quello più costoso Tu non ci guadagni E scelgo la consulenza fee only Tu non ci guadagni niente A Mavert Allora Mavert Sei a posto Ah ecco Sì sì No ma non ho dubbi Che tu non sia obbligato A fare quel tipo di consulenza Anche in banca io ogni tanto Dalla banca stessa ho ricevuto Consulente su prodotti Su cui loro so che ci guadagnano poco O quasi niente Però sai Immagina quello che non ci sta capendo Niente E come fa lui a sapere Che tu gli stai proponendo Una cosa Che è nel suo interesse Non lo può sapere Non è che non lo fai Ma non lo può sapere E resta sempre questa ambiguità Fabio si lamenta Come si chiami? Lucio Fabio si lamenta Che Che spendi troppo Ma non vedete in futuro La cia C'è chi guarda la live dopo E Sì io le leggo le domande Dovrei anche magari Aspettate Potrei fare Un banale così Però non mi si docca Brutta parola Dove la metto? Qui Potrei fare un banalissimo così Non la vedete la chat Se guardate la live dopo Ci potrebbe Io lascio sempre la possibilità Di fare chat replay Ah ma adesso c'è sopra la mia faccione Giovanni ci scrive Se ti offro una consulenza normale Guadagno dei fondi Ok Se ti offro una consulenza Fionli Guadagno della parcella Ah e tu quindi Non mi consigli i fondi Ok Questo è già Un passone avanti Però sai Il problema È che Arriva il tizio Che non se ne intende Come fa a sapere Che un altro consulente Pippo Non mi sta consigliando I fondi suoi Per guadagnarci il doppio Sia dalle fiche Dei fondi Cioè questo è il brutto Ehm Ah sì certo 150 metri Se in full screen Non vedi la chat I replay Ok beh La lasciamo anche qui Ehm Ok Passiamo a Federica Bardolino Ma qua Ci siamo Potrei aver quasi finito La live non finirà più 36 anni Dipendente pubblico Sposata Con figlio di 6 anni La nostra ral Familiare 55k In Italia Siamo molto fortunati Perché abbiamo Casa di proprietà Non abbiamo debiti Ok Il mio portafoglio È un momento così composto Picca dicembre 2022 Pack di milotto trimestrali Devo stringere Devo stringere Divisitavo c'è tante Agg Ah ecco me l'ho scritto qui Cos'è l'ag Ehm Allora Ah 125k Dvvce Ok Fondo Fondo azionario mondiale Sbilanciato Secondo me Sugli Stati Uniti Questa è una Sharecore C-I Aggregate B-D C-Z-F-F-D Intanto è Tra le mille sigle C'è questa che vuol dire 2% in più Secco secco Pulito pulito Un 2% in più Poi Questa mi sembra Un aggregate bond Quindi un fondo obbligazionario Eggiato Ok Poi BTP novembre 23 I BTP marzo 24 Ora perché Federica Ha i BTP novembre 23 Marzo 24 Federica Hai previsto delle spese Ok 5k liquidi 20k Compto Emergenza Libretà postale Non appena si svincolano In 40k di BTP Ok Sì non li vorrai vendere Così risparmi anche un po' di commissioni Che verranno reinvestiti Negli strumenti che già possegono Sto valutando di entrare Con un 10% Etc Oh grazie che me l'hai scritta Etc sul loro fisico Ci sta Io però non concordo su questo Questo è Eggiato Bond Perché Non compri obbligazioni singole Cioè Allora Lo compri per tenerlo a lungo termine Se la risposta è sì Ti stai inquinando il portafoglio Cioè ti stai rendendo il portafoglio Meno Redditizio Con la Z Ti stai rendendo il portafoglio Meno redditizio Se lo fai per abbassare la volatilità È soltanto una questione psicologica Non razionale E su questo insisto Ultimamente ho mollato un po' su questo Ma è irrazionale O lo fai perché pensi che questi bond salgano più delle azioni O come le azioni Ho i miei dubbi Se lo fai perché hai bisogno di soldi Non è questo lo strumento giusto Ma è questo Ok Vediamo l'obiettivo 20-30 anni di investimento Quindi non hai bisogno di soldi Ok Supporta l'eventuale misura pensione IMSS E valuta anche ovviamente il fondo pensione Aiutare il mio figlio A ridagliare con questi studi costori Sarà che io ho fatto studi economici Studiate matematica Non dovete comprare neanche un libro Veramente Non ho comprato neanche un libro Laurea e dottorato Acquisto casa Ok Avvio di un'attività in generale E avere dei soldi destinati a lui Saggia scelta So che non Oh eccoci qua Ah La paura irrazionale La segniamo in rosso La paura irrazionale Questo sono d'accordo Lo segniamo in verde Sì buonotte Sì sì sono d'accordo Questa però è la paura irrazionale Cioè ci metti una pezza Cioè invece che farti meno 40 Fa meno 35 Io piuttosto Guarda il mio video di domenica Sto sponsorizzando il video di domenica Guarda il mio video di domenica Che lì Soltanto sull'analisi che ho fatto Per quel video Poi voi potete rifare L'analisi su altre cose Però in quel video Io ho fatto vedere Che un buon modo Per salvarsi Da eventuali drop Improvvisi È non avere Tutta la Tutta America Quindi valuta Altri modi Per Compensare A questa fobia Vediamo cosa mi si scrive qui Giovanni Rizzo dice Che anche l'autonomo Può avere Beh però l'autonomo A norma Non dovrebbe L'autonomo Non deve ricevere soldi Mi confermi Spero Se no Tutto il discorso sugli autonomi Cade Tutto il discorso sugli autonomi Cade E E quindi Grazie Maver Ci sentiamo tra dieci anni Sta finendo architettura Ha senso investire un anno Per un master in data analisi Secondo me sì Per la data analisi Pompa sempre Giovanni Chiediamo a te Secondo te Gli autonomi Cioè esistono autonomi Che possono avere Retrocessioni Da 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 Emittenti Perché se la risposta è sì Allora tutto il discorso sugli autonomi Cade E A norma è esattamente uguale Però mi piace l'idea che ci siano le fee Cioè ci sia fee only Quello Adesso lo dirò spesso Allora dirò Quindi potete Ci sono consulenti finanziari Non autonomi Che possono essere a fee only Cosa ne pensi Trovare utile Power BI Me ne parlano tutti Ma io sono vecchio a scuola Mi faccio le robe da solo Però probabilmente Sarà Sarà il caso di passare A Power BI Si Novi Stitolo bancario americano Fausto Coppi Sei tu che vinci Meglio Directa Sell o Fineco Directa Io mi sono trovato tanto bene Però con Sell La Fineco non l'ho mai provata E non ho tempo per guardare Just ETF Ho troppi portafogli Sei ancora in live Esatto Esatto Non finisco più Sono tre ore che sono in live Abbiate pietà Se sei autonomo Arriva Fidelity Ti regalarti gadget Ti porta fuori a cena Ok Ma finché mi regala gadget E mi porta fuori a cena Sì Posso essere l'amicone di Fidelity È vero Posso essere influenzato Pesantemente da Fidelity Ma in quel caso Diventa un autonomo Incompetente Ma non diventa un autonomo Che ha interesse Perché RGG E' tra 2% in più Ma ha dentro bond Che rendono più di quelli europei Sì Ma sono in dollari Ah Poi te lieggia Sì Ok Quindi dici Ti compensa Ricorda la mail superpolissa Sto ancora riflettendo No Non la ricordo L'ho rimossa Esiste Sta nel consulente E sta trasparente Dimmi un piccolo Cerco di essere No no Hai fatto benissimo Giovanni a dirmelo Perché mi hai dato Un'informazione preziosa Che anche quelli Non autonomi Possono dare a Fiolli In Italia Solitamente E' un'informazione preziosa Ok Andiamo a Problemi Lì li metti Ecco dove li metti Se no Cos'è Il diambuttiamo ad Alice Così dei consigli a casso Consigli Sbagliati Messico Sudafrica Sbagliatissimo E poi Poi cosa c'è Canada Europa dell'Est Russia Ecco Cioè Hai un portafoglio Ben diversificato Punto Mettili dove vuoi Tanto sei capace Sei brava A diversificare da solo Vedo Ha senso diversificare L'apporto obbligazionario Del portafoglio Tra ERO e USD Sì Se vuoi investire In dollari Io mi sono stufato Di investire Nelle valute Perché ho visto Che vanno a caso Vanno a caso E secondo me Sono a somma zero Nel file Excel Usi anche VBA Nel mio no Nel mio che ho fornito A voi no Ogni tanto Se proprio ne ho bisogno Disperato Uso VBA Nel file Excel Ma so programmare In VBA Male Ma so programmare C'è anche un piccolo Gossetto di VBA Argentina Sì Lo dice Niccolune Passiamo a Pierino Ballerino Come mai è venuta così Attualmente sono un XXX Anche se ho avuto esperienza Come YYY Quindi creazione Di modelli statistici Per il business Ho 32 anni E una figlia Di 8 mesi Liquidità Attualmente ho molto cash Perché sto cercando casa E quindi ipotizzando Un bacio di 300k Un mutuo di 80-20 Avrò un'uscita In liquidità Di 80k Stimati Per la casa Più un cosciente Di sicurezza Di 15k Hai stimato bene Vero? Tutto ci hai messo dentro Anche i mobili La ristrutturazione I pavimenti di merda Che te li danno In piastrelle Poi devi metterci in legno In attesa dell'acquisto Posso interessa Sentirete le voci Short term bond No No Short term bond BTP Già di più Però La stai cercando No Io andrei Sui bot O i conti deposito Perché la stai cercando Vuol dire che da un momento All'altro Può arrivare Da un momento Sì sono ancora In live Giulio Purtroppo Da un momento All'altro Può arrivare La casa Quindi Io non andrei Neanche su Short term Bond ETF Io andrei proprio Cioè Robo svincolabili Perché poi i proprietari E lì ne conosco Uno Vogliono i soldi Chi dà i soldi subito È quello che prende Portofoglio location Immagino Se non compri casa Investment clock strategy Vediamola Allocazione Bond stock 50 Perché Sì ma questa è la parte Che non ti serve per la casa Non ho capito Dunque Ah Vediamo un po' Quanti soldi c'ha Questi sono Un Totale Di 30k Ok Sulla quote In bond Altamente esposta In BTP Non risulta utile Ruotare quote di BTP Italia Verso quote di BTP C'è la fissa Allora Questa è un cercare Di prevedere il mercato Spostare le quote Di BTP Italia Verso quote di BTP A cedula fissa Tu stai cercando Di prevedere il mercato Dei tassi E l'inflazione Stai cercando Di prevedere Che l'inflazione Italiana Stia sotto il 2,5 Difficile Oppure stai cercando Stai cercando Stai cercando Di prevedere Che i tassi Vadano su o giù Non cercare di prevedere Tienti Quei BTP Italia E amen E Tra l'altro Non è che Questi due Sono BTP Italia Tiente Di rappro 9.000 euro Di giugno 30 Cioè male Non fanno Abbiamo anche Bazzecola In crow Immagino che tu abbia La carta Quella Ruby E Bazzecola In bitcoin Any Perché ci sta Un'azione Comprata a caso Mannaggia a me Quando ho detto Di comprare azioni Azioni A caso Non azione Un'azione A caso Ok Tu sai che Questo Questa frase Qui ti costa 2% Ding Sul rendimento No 1-2% Mangiato Sul rendimento E Treasury bond 20 anni A lei Mettiamo Nel rosso 2% Sul rendimento Queste sono le mie Preoccupazioni 1-2% Sul rendimento Mangiato E In più Quei Treasury bond A 20 anni Questo è Un Un etf Che se i tassi Spostano Di Di una Di un Quadridecimale Il prezzo Va Su Va giù All'improvviso Mostruosamente Ok E azionario Ce n'è qua dentro Ah si è questo Eggiato Per sicurezza E Ah È grosso Tra l'altro E Sai cosa Non si capisce Da qui Questi soldi Quali sono Quelli che ti servono Per l'appartamento O no Allora Lui è in uscita Di 80k Cuscinetto Di 15 Che Non va investito Ah E poi C'ha questi altri soldi Extra Ok Vabbè Non è Non è un investimento Malaccio C'ha queste robe Costose C'ha un No Questa non è un'azione Scusate È un'obbligazione Ok Va bene Allora sì Me l'avete già detto Immagino Fabio Ti rispondo volentieri Al gioco Suggerimento Gioco da tavolo Per i figli Di 7 anni Gemelli Allora Però mi devi dire Se li hai mai abituati A giocare Uno Se li hai mai abituati A giocare A giochi da tavolo Base Che sono Giro dell'oca Monopoli Risico O robaccia Del genere Due Se li hai mai abituati A giocare A giochi da tavolo Un po' più seri E Rispondimi a questo Poi ti dico quale Dove posso scaricare I tuoi file Excel Allora I miei file Excel Sono sempre sotto al video A cui si riferiscono Ma potete scaricarli Comodamente Tutti in blocco Da www.paolocoletti.com Barra YouTube 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 Qui A parte che vi parto In automatico Investire fino a 50.000 euro Vedete Qui ci sono Tutti i file Excel E Python Di tutti i video Che ho fatto Pa 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 Dove Aiuto Mi sono perso Eccolo qui E niente Questo portafoglio È sensato Il grosso sta qui E I commenti Gli ho già fatti Ciao Questo lo mettiamo in giallo Ciao Cosa Queste due robe Sono costose Questa roba È veramente L'altalena questo è veramente l'altalena l'altalena forte vuoi migrare verso le azioni? va bene io migrei con questo verso le azioni appena i tassi calano quindi il valore di questo schizza su, io giù venderei tutto e sarei a posto mi è perso la chat dove è finita la chat? è finita nel posto sbagliato perché mi si è ridimensionata? ah è un'altra chat questa, vabbè, ok ah ciao Guido quando viene a Roma sono già venuto troppo tardi, basta, adesso vengo a Roma una volta ogni dieci anni non sto scherzando prossimo luogo Parigi devo fare un raduno anche se a Bolzano sta freschi col capro che vengo a Roma prima di Bond Matusalemme e questo è un Bond Matusalemme è un ETF Matusalemme e put sul nostro indice queste robette non so mai se funzionano dovrei fare i conti però il problema è che sulle opzioni non si trovano mai i dati storici quindi non posso mai fare i conti grazie mille Paolo anche solo per aver letto purtroppo mi spiacerebbe molto ok quindi da d'ora in avanti dirò che i consulenti oserei dire non quelli delle banche ma quelli più che altro legati ai fondi possono investire anche a fee only quindi potete rivolgervi a un consulente e dirgli esplicemente io voglio pagarti è come andare dal macellaio e invece che chiedere qual è la carne migliore dire io ti pago se mi dici qual è la carne migliore allora gli ricevi i soldi e ti dice vai vai dal mio vicino qui a comprare ah sono gemelli Fabio avete giocato a giochi basici ma so che rompo le balle Fabio ma basici cosa vuol dire? avete giocato a non tarrabbiare sanno giocare a non tarrabbiare tanto per dirne uno o sono basici quelli per bambini che hanno delle difficoltà cognitive nel senso quello proprio prendi metti dimmi dimmi le valute principali hanno tempi lunghi eh sì rafforzamento del dollaro però sarà non ci sarà sì ho iniziato alle 18 Michele sono ancora in live sembra una charade esatto ciao Elia raduna 30 in birreria ma siamo in una zona un po' in birreria in effetti è comodo potremmo farlo al piedavena però il problema è che se lo facciamo di sabato il piedavena vorrà vorrà la pronotazione giochiamo a giochi di dadi e quelli da bambini con piccole carte rischio ok allora quindi non li hai mai educati è noto che scrive bravo Elia giusto 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 e se avete problemi con la matematica tutti quelli che mi scrivono can play con la matematica il canale di Elia allora dobbiamo consigliare un gioco da tavolo per Fabio non è un gioco da tavolo esiste un gioco da tavolo legato alla finanza si chiama venerdì nero black friday schwarzer freighter in tedesco ce l'ho volevo farci un video una volta sop però è un tolato bello perché si vede proprio l'effetto della borsa quello espressamente legato alla finanza consigliamo a Fabio dei giochi per bambini 7 anni che non hanno mai giocato allora Fabio ticket to ride ticket to ride ticket to ride inizia a farlo giocare senza i biglietti se compri ticket to ride Europa senza i biglietti e senza le stazioni fallo giocare così quando sono appassionati metti i biglietti e le stazioni se giochi alla versione Europa e questo è il primo poi 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 Carcassonne Carcassonne puoi farli iniziare senza i contadini anche se senza i contadini è da spararsi ma dovrai fare così e poi quando hanno capito mettigli i contadini Carcassonne base intendo sono tutti a prezzo abbastanza economico c'era Transamerica che era anche facile e non so se c'è ancora pensate che quando era uscito costava solo 8 euro ok questi sono i giochi secondo me molto introduttivi e molto introduttivi sono molto diffusi hanno il vantaggio anche di essere molto diffusi quindi magari trova anche altri bambini che sanno giocare e alla Fosto ah però Marcello sta lanciandosi in locali locali Trentini a Trento non si può fare una via di mezzo e per me è la via di mezzo Trento no Monopoli Nicolune cosa consigli giocacci Alfio investo solo in Cvputs su Indicibar Alfio il problema è che io non posso fare da analisi dati su quella cosa lì perché non ho tutti i prezzi di tutte le puts e se ce li avessi mi dite voi la strategia io faccio l'analisi Porto Rico Giulio è estremamente spinto per bambini di sette anni che non hanno mai giocato a giochi di un certo livello intendo certo livello non intendo fighi ma intendo che non vadano oltre la complicazione base direi che può iniziare a comprarsi carcassone dobbiamo andare su Amazon a vedere Amazon si vede tutto quello che ho comprato carcassone carcassone base cos'è? no non questo voglio quello base si può avere quello base eccolo qui vento intero non poco eh ce n'è uno migliore? 47 junior anche no neanche sì 99 euro carcassone è uscito uno nuovo ma non lo consiglio e anche Catan onestamente ci può stare secondo me a quell'età anche Catan ci può stare anche Catan ci può stare l'inizio senza le carte sviluppo poi cosa ho detto ticket to ride ticket to ride che in tedesco si chiama Zug se comprate i giochi in tedesco sono praticamente uguali e costano meno però Amazon non ve li vende ovviamente eccolo qui a 31.55 dell'Asmoday questa è la versione Europa questa è la versione originale America che non ha le stazioni se no se giocate spesso in 3 era bello questo era bello se si giocate spesso in 3 è specifico da 3 Nordic Countries ci sta anche come regalo di Natale questo è per giocare in 2 mi sembra si gioca fino in 4 ma si può giocare anche bene in 2 va bene hanno il pregio che si impara anche la geografia dopo questa parentesona e ho perso 100 abbonati qui andiamo avanti ho perso anche la chat mannaggia a me eccolo qui non li hai mai sentiti Nicolune perché tu non sei pratico di giochi da tavolo abbiamo Atomica 65513 questo è il codice della sua valigetta atomica che ah niente butta così va a lei vediamo BTP Italia novembre 22 2 28 sarà novembre 28 10.000 Alibaba 10.000 ETC replicatore del gas 10.000 Brant sarà quello sul petrolio sul Brent immagino ETC cos'è sto Brant non si capisce me lo direte voi sicuramente in chat e guardo lo chat Funke Slag certo Fabrizio Funke ma non puoi popolare bambini di 7 anni c'è un milione di calcoli da fare cioè è complicato l'ultimo turno è complicato per me ho un amico fisico che ha detto che a Funke gli fuma il cervello l'ultimo turno l'indirizzo a cui mandarlo Yolanda è youtube youtube chiocciola paolo coletti punto it perché non fai live su Twitch come Mr. Rip perché non sono capace e perché Twitch non mi paga oh sta arrivando l'anguria vediamo vediamo un attimo chiudo la porta siamo vicini alla conclusione allora sta arrivando l'anguria non so nel live su Twitch mi spiegate perché la gente fa live su Twitch mi dicono perché perché è un altro tipo di community però non paga se non ci si abbona qui live su YouTube un 50 euro lodi mi arrivano ah Fabrizio per te e c'è allora sì non so se c'è la versione online di Funke ok passiamo alle robe serie Giulio Brunter è crude oil immaginavo MC sarà un China Aya sarà un coso sui polli cos'è Aya dovresti trovare un companion sì dovrei trovare uno che mi cerchi gli etf Twitch paga di più davvero paga meglio Twitch paga meglio e le donazioni no le donazioni no no io non ho toccato soldi donazioni no gli altri sono diritti d'autore io gli pago le tasse come diritti d'autore donazioni no non voglio avere donazioni io non ho preso niente neanche abbonamenti non voglio abbonamenti io ho questi problemi fiscali questa live non arriva nemmeno a mezzanotte andate a fare sì le angurie tra l'altro il mio commerciante di fiducia è carissimo 20 euro mezzanguria oggi vabbè comunque ha un'azione vfc che non sappiamo cos'è sì ma ciccio dimmi ste cose bitcoin comunque lui ha etc solo zinco questo sono sicuro inda è un etf andiamo a controllare su cosa è india ovviamente basta io do in avanti non faccio più il portafoglio in cui mi indicate stick up di sigle vfc non so che azione sia e aia sarà un etf o sui polli o sulla olanda asia invece ok ecco portafoglio dunque andiamo sulla chat anche sì le donazioni potete farle anche qui sì lo so però diciamo sono di modica entità su twitch invece abbonamento donazione iniziamo a uscire dai gangheri se doni 5 euro sai cosa succede Bertini 95 che mi arrivano assieme alle royalties youtube non mi dà la possibilità di distinguerli e quindi eeeh provate cioè provate a farmi una donazione a 500 euro vedete se arriva eeeh più un fondo risparmio e urgenza di qualche migliore di euro allora cos'è che ha questo portafoglio che non va cioè in mercato normale non c'è cioè va bene non sovraesporsi sull'americano ma qui non c'è niente niente di europeo niente di americano ha soltanto tante commodities un BTP Italia due azioni a caso Alibaba e VFC che a questo punto andiamo a guardarci che cos'è VFC azione cos'è VF Corporation ha Global Apparel quindi fa i vestiti cioè ha mercati emergenti e commodities è per me è molto sbilanciato sta cosa cioè le due azioni singole a 10.000 sono follia ne comprare almeno 4 se proprio proprio anche di più ma perché comprare azioni singole poi tutte queste commodities e no se tu ci credi sei tu che ci credi non io hai soltanto India Cina e basta no io non farei non mi sento di consigliare un portafoglio così chiaramente ha le stesse probabilità di successo di uno che ha VFC però non me la sento di consigliare così l'Asia fa schifo le commodities vanno basse e questo portafoglio si intoppa a vita e fallisce Alibaba questo portafoglio si è intoppato a vita si salva solo col bitcoin cosa mi dite voi continua a ascoltarti dopo 4 ore e ci abbiamo tutti dei problemi ma siamo ancora in diretta stai facendo la maratona ventana nessuno mi dia commenti su questo coso ok direi che possiamo formarci qui Andrea Bocelli no c'è l'ultimo Andrea Bocelli e poi ho finito basta finiamo con Andrea Bocelli dai Andrea Bocelli Andrea Bocelli portafoglio del padre l'unico certificato presente in perdita ha una barriera altissima ora in perdita non mi interessa che certificato un certificato del padre scade nel 2028 pensavo di portare la scadenza boh minusvalenza diventa veramente piccola eh ma dipende da quanto quanto ti quota quanto ci non capisco cioè perché i certificati possono essere qualunque modo quindi non capisco devi dirmi tu come funziona l'effetto contango ti frega eh sì però vediamo il resto del portafoglio quindi caro padre perché mi compro i certificati vendolo magari quando e se la minusvalenza diventa veramente piccola non capisco se ti riferisce alla minusvalenza che hai vendendo il certificato o no vedi tu mi sembra che tu ne sappia e poi picc'altro hai le condizioni del certificato in mano oh fondi comuni allegria uno due tre quattro non voglio neanche sono termine terribile che sono fatica a trovare il kid su google ok sono presenti solo nel sito ufficiale bene ok sono strumenti che fanno schifo ok e vendere fondi o non vendere fondi in perdita si vendono in perdita perché se proprio proprio volete restare investiti nella stessa cosa voi comprate il relativo etf e avete la stessa esposizione quindi magari sperate in un rialzo ma con molti meno costi di gestione quindi mentre dici vendo o non vendo quell'etf obbligazionario in perdita è una domanda da farsi vendo o non vendo il fondo il fondo in perdita non è una domanda da farsi lo vendi e compri l'etf relativo che sicuramente costa meno almeno quello si il portafoglio Giulio non è rischio questo quello di di atomica non è atomica proprio è un portafoglio atomico sono con pensavo proprio di vendali si pure non trasferibile diretta eh ti fai minusvalenze si si esattamente così bravo buona idea come recuperare le minusvalenze un portafoglio azionario fa schifo al papà quanti soldi ha non ci dice quanti soldi ha magari ha abbastanza soldi per farsi azioni singole chi riconsiglia l'atomica non scherzo chi riconsiglia a quell'altro quello che aveva Berkshire Hathaway certificati un certificato di mediobanca però adesso è un po' un casino andare a guardare un certificato singolo chissà come sarà sarà un milione di caratteristiche auto call bisogna leggere il prosperity bisogna leggere tutto quante le caratteristiche bisogna leggersi tutte le caratteristiche e vedere bisogna leggersi le caratteristiche e vedere cosa che confesso te le guardi tu comunque c'è anche la possibilità di fare un portafoglio di una ventina di azioni singole 21 azioni singole ci può stare dipende da quanti soldi ha papà papà non ha niente il contrario che tu passare a directa quando hai compriamo nuove azioni a caso adesso devo vedere quanto ho di bonus azionario su directa ho 4 anni per le minusvalenze questa frase da dove viene scadda 2027 ah beh allora si se te lo sei studiato va bene no come metodo va bene per occupare le minusvalenze non è un grande investimento secondo me io l'ho già comprato Berkshire Hathaway ho già come in silenzio della mia cameretta anch'io sono uno strumento che non voglio comprendere ma si sono distrutta è vero meno male sono abituato a insegnare 8 ore di fila obbligazioni societarie con cedola bassa ma le prendi societarie per pagare più tasse e quindi usare più minusvalenze perché è come cioè è una suddita pagare più tasse e prendile direttamente governative ci sta però ma insisto ecco bravo titoli di stato ma con cedola nulla controlla sempre a quanto sono stati emessi controlla sempre a quanto sono stati emessi devono essere emessi attorno al 100 altrimenti è un casino ah già possiede qualche azione eppure imperia come ha fatto a possedere azioni singole imperia è salito tutto è salito l'impossibile valuta anche la possibilità di fargli un portafoglio azionario decente che vuol dire 20 azioni 20 azioni a blocchetti piccoli quanto basta per pagare poche commissioni e ci sta e ci sta e gli ho smaltiti tutti tutti quelli che mi hanno scritto fino all'ultima live quelli che mi hanno scritto dopo s'arrangiano Cosmo Motus durante la tua live sono stato in piscina ho mangiato ho fatto la doccia ho fatto la barba ho mangiato dopo questa live mi sento ricco di sapere povero di capitale sembro io dopo la sesta birra ok no non prenderei dei future su fire rolling non sono capace bene e direi che la live si può anche concludere qui vi saluto tutti è arrivata l'anguria no era già qui ma adesso viene tagliata l'anguria e giustiziata ciao ciao